Salve Hello It's me you looking for come? salve se lo riesco a vedere dai non può essere lento sia il computer che il cellulare c'è la pubblicità tranquilla si lo so perché sono piccolo in verità no quanto pesa o la quanto pesa e quanto costa una pozzina di cura? troppo una pozza di cura? era 50 monete d'oro e il peso di un polvo non te la puoi permettere insomma 50 monete d'oro e come peso dal replayers handbook dove devo cercare? è in equipaggiamento equipaggiamento un'intera pozza chiedo no? sì sì un'intera pozza un pozzo più piccolo e femminile per contenere le bolsa che forno riprendere ci stanno esatto esatto vorrei una jacuzzi di cura ferido anch'io voglio una jacuzzi di cura con il bassa bicchiere d'acqua ciao yuk grazie per la saldo ci amore ti faccio le battute mentre lei beve tipo la fiala tipo la fiala di acido o l'ampolla d'acqua santa? tipo l'ampolla d'acqua santa direi pesano uguali mezzo chilo mezzo chilo ti avrei detto mezzo chilo infatti vedi che bravo master che sono venduto! come? come? signor bolstank come? chi? buon salve buon salve! ma cosa? 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 salve a tutti bellissimi branno un po' di meno grazie! no no no! prodino da scella! ci sembra un buono? si chiama prodino da scella ah bo allora! ah allora! c'è l'unico giorno che vengono le live in bianco mi danno anche e di che bianco non fa per me! no non fa per me! bravi in bianco! no! no! no no! le battute mentre si beve sono le rovino del muovere in marma che solo chi ha fatto l'acquire! esatto bravissimi! bravissimi! Allora, io mi prendo un po' d'acqua. Ah, c'è, tu l'hai sentito del territorio. Com'è? Niente. Disquisizione su... Io anche ho un alfo libero ormai, devi arrenderti l'idea. No, felicissimo, felicissimo. Quello è il finipuzza. Mi trovo molto offeso, dicono. Il signor Brodino. Si è offeso, a quanto pare. Ah, buttami... No, cosa? Questo? Ok. Carica batteria. Ah, ok. E poi con cosa carica il cellulare? No, non il cellulare, il computer. Devi far mostrare il computer. Da qua, da qua. Dicono, ma soprattutto, Bolstag riuscirà finalmente a parlare con Giga? Ed è ancora adamantino? Adamantino o ancora adamantino? Parlare con Giga ho il 60% di possibilità in più. È una cosa appena chiamata. È una cosa molto difficile che non ce la faccia. Però... Ma non impossibile. È pur sempre borsa. È pur sempre borsa. Può sempre fare 0,01% delle carte nelle linee del Ranger. Ecco, quello. Capito nel Ranger. Giusto per... Perché sai, in verità mi servirebbero poi anche il manuale dei mostri. Ma facciamo dopo, dai. Giusto per rompere le palle dopo, no? Esatto. Vabbè, io non posso avere solo dei... Cioè, ho un... Un quantitativo di libri non indifferente. Ma i tiri vecchi non valgono. Come stanno i bellissimi? Ma Cacolucchiam, come stai tu? Lui è in ospedale. Ha appena fatto un incidente. Ma no. Il signor povero Cacolucchiam. Ciao. Aia. Ciao. Ma no, povero. Buona corigione. Comunque io sto bene. Grazie. Ok. Eh, quando hai esci dall'ospedale potrei dire anche tu di aver fatto una guerra a caso e vantarti della cosa. Ma sì, ma sì, ma sì. Sono saliti di livello dopo aver ucciso un esercito di Oni? Sì, in verità. Un esercito? Due. Due Oni. Non ci date meriti che non abbiano? Ma c'è prima. Sì. Che quello ci pensa già cosa. Quanto c'è? 1130. Grazie. 1130 su 2700. Eh sì. Prima o poi. Ora si inizia ad andare più lentamente. Fallendo di livello. Perché fino a mo' invece era proprio di corsa. Infatti. Di corsa. Dove li avete comprati i manuali? Io su Amazon. Io al fumetteria. Lui al fumetteria perché si è presi in italiano. Ci può dire che li ho scaricati? No. Ok. No. Non c'è possibilità di scaricarli. Ah. Esatto, non ci può. E niente. Quindi. Forse sì. Vogliamo sentire un imparziale. Soprattutto imparziale e legatiero. Legatiero. Riassunto di quello che è successo nell'ultima sessione. Vogliamo proprio. Vogliamo? Stefano, secondo te vogliamo? Milo no. Io no, ma vogliamo. Ma vogliamo. Quando vuoi? Ho sentito piccoli stralci. Signori, state per assistere all'abilità da bardo di Volstagg. Quindi. Ehm. Diciamo che ecco. Un applauso. L'unico riassunto che poteva essere verigliero è comunque stato. No, no. Te ne tutti. Verigliero è verigliero. Il punto è che ce ne ho due. Esatto. Perché ho la prima parte che arriva fino a quando noi stiamo per tornare a combattere il demonio. Ah. Ah. Quindi da quando mi risveglio. In poi. In poi. In poi. Sentiamo la poesia. E lo risveglio. Ti dico solo che Kakoluki dice che vi spiego dall'ospedale o mi sono perso la terza puntata. Mi affido al recap per poter seguire con un po' di logica questa sessione. Perfetto. Perfetto. Sbagliato. Perfetto. Sbagliato. Quando vuoi Alberto. Parto. Parti. Titolo. Titolo. Sorge l'Adamantino. Mamma mia. Già. E niente. Volevo fare altro nel mentre ma devo ascoltare. E via così. In vero. La vita di un eroe è tempestata di pericoli e sofferenze. Questo aspetto fu ben chiaro al saggio Bolstag all'indomani dell'ultima grande vittoria conseguita quando passata la gloria momentanea rimase soltanto l'incolmabile vuoto e dolore dovuto alla perdita di sessanta fedeli compagni. Sono monete d'oro. Ci sto almeno chiuso. Prego. 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 Mai vi fu il lutto più grande nella vita del valoroso nano. fanno morire. Seguirono giorni di grande sconforto e inappetenza. Giorni. Colminati in una notte senza stelle nel cielo di Mizu in un profondo senso di inadeguatezza. Tutta la sua possanza non era bastata a proteggere i suoi cari. Sempre le sessanta monete d'oro. Sempre le sessanta monete d'oro ovviamente. Fu in questa atmosfera che lo sguardo di Bolstag fu attirato sulle sponde del mare da uno sbrillo cicchio irradiato dai flutti. Eh. Mamma mia. Io so cosa stai per dire. Quella singola luce iniziale fu accompagnata da una moltitudine di luminescenze. Non dirlo. Dinanzi agli occhi attoniti dello stupefatto nano si estendeva un mare lastricato di diamanti, rubini e di tutte le più preziose e mirabili pietre. Investito da cotanta magnificenza, inconsapevolmente, o forse perché guidato da divina energia, il nano creatore iniziò a plasmare il metallo. Il nano creatore. Per tutta la notte, con armoniosa cadenza, il martello colpì il ferro. Questa creativa melodia ebbe termine soltanto alle prime luci dell'alba, quando tra le mani del possente Bolstag vi era il più pregiato scudo che la storia conoscerà. Fu soltanto in quel momento che il saggio Bolstag vivenne consapevole che aveva trascorso tutta la notte a forgiare quel sublime imanofatto in compagnia di Omezzoli Requieto, il grande dio dei mari. Mai! Ancora che io pensavo che avesse scritto che l'aveva trovato nel mare, perché gli aveva fornito direttamente il dio. Aspetta, aspetta. Lo sto facendo con il dio. Mai! Prima di allora i favori di Omezzu erano stati concessi a un figlio della montagna. Tale fu la soddisfazione del dio, e beccate di questa bombarda, che decise di benedire il valoroso nano donandogli una pelle color del diamante, erigendolo a suo araldo. Fu in quel momento, irradiato dalle prime luci del mattino, che nacque l'Adamantino Bolstag. Boom baby! Per chi non sapesse, Bolstag è diventato blu di pelle a causa di un errore nel lanciare una spella di primo livello. E dopo ci ha provato altre tre volte, fallendo tutte e tre le volte. E nella prima volta ha perso la voce. Grazie! Grazie! Monete, monete, monete. Poi c'è quella più veritiera, che è la continuazione. Vai, prego, prego. Col demone ombra. Però comincio sempre con... Pochi ore dalla sua nomina di araldo di Omezu. L'Adamantino Bolstag dovette dar prova della meritata fiducia, dovendo affrontare, mi son perso, un'abominevole demone ombra, che stava portando distruzione imperversando per la cittadina di Oro. L'imbattuta compagnia di Bolstag era infine riuscita ad imprigionare la demoniaca creatura all'interno di un magazzino abbandonato. Il demone, tuttavia, era lungi dall'essere abbattuto. Protetto da uno scuro manto, era impenetrabile alle frecce. Mi spiace. È immuno alla magia. Mi spiace. Solamente l'Adamantino Bolstag, grazie alla possanza dei suoi polmoni, riuscì ad investire ripetutamente l'empia creatura, emettendo dissonanti e roboanti suoni tramite il suo corno. Il demoniaco avversario si trovò impreparato dinnanzi a tale magnificenza. L'astuto nano, difeso dal suo scudo e accompagnato della sua fedele ascia, approfittò di questo spiraglio e ingaggiò la mostruosa creatura in corpo a corpo. Il valoroso nano. Mi sarei immune alle armi. No, non l'ho mai detto alle armi. Ho detto alla magia e al frecce. Eh, vedi la licenza bardica. Eh. Vuoi poi che te la ritiro, la licenza bardica? Milo, quando vuoi lezioni basta che bussi alla porta. Va bene. Il valoroso nano, luminescente figura che sfidava l'innaturale oscurità, fece indietreggiare a più ripirese la fosca figura, la quale disperatamente cercava di affrontare avversari più deboli. Fu durante l'ennesima codarda ritirata che l'Adamantino Bolstag, con un preciso fendente dal basso verso l'alto, squarciò in due lempia figura, tagliandola di netto, ponendo così fine allo scontro. E la cosa più interessante è che tutto questo riassunto è vero. Tra l'altro. È vero. Tra l'altro. È l'esperienza della prima parte. E in più vorrei far notare che questo è più o meno la trasformazione di quello che era il primo riassunto in assoluto. Perché nel primo riassunto combatteva contro l'ostura entità che era un tappeto. Allora, prima di iniziare dobbiamo ringraziare Picolor, Snake per la SAP, Astronaut grazie mille, Luke che abbiamo già ringraziato, Caffeina per i tre mesi e Dark Norin per i tre mesi. Grazie mille. Allora noi ora inizieremo. Oggi non c'è nessuno che a me non merita di essere ringraziato perché era solo due mesi. No, non c'è nessuno. Non c'è nessuno sfortunatamente. Quindi, io devo fare ancora una cosa. Prima di iniziare, volete dire qualcosa? Qualcosa! Grazie, grazie. Buon star quando vuoi lezioni di... Basta che buccia la mia porta. Comicità. Comicità. Non ho spazio neanche per dire merda. Ma perché non apriamo una scuola? Vero? Io mi occupo degli iscritti e tu della... E tu della... Comicità. Ci sta, ci sta. Fatta. Meglio meglio. Ho deciso. Mi si vuole bene. Quindi... Ma secondo te... Questa è un bello testo che io non fostavo male. Ma no, ma che... A ruolare. No, ma più figli. Magari. Laura ha già dichiarato, a più riprese, che sta sul cazzo. Perché tu hai fatto 9 danni con l'ultimo attacco. E 9 danni è il suo massimale di danni. E hai detto che è stato sul cazzo, non ci darei. Ricordo. Ha! Ha! Perché? No, sei tu, il suo nuovo maestro è un tuone e compito addestratne. No, 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 no... No, 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 no. Quindi. Quindi. Allora possiamo fermare la musica epica... per un grande poster... Dove erano rimasti? Non mi ha appena finito di dire. l'ultima sessione si è fermata con il gruppo all'interno di un magazzino mezzo distrutto fiotti di luce entrano dal tetto e l'adamantino che con il suo ultimo colpo d'ascia riesce a disfare il demone che scompare polverizzandosi nel nulla quindi cosa volete fare? è pomeriggio inizio pomeriggio avete un paio di chierici fuori dall'edificio che sentendo che il trambusto si è concluso si sono fermati nei loro cori e canti per contenere la creatura e basta siete voi chiucchio che dice che cazzo volevo tirarlo giù io non si è abbastanza buono cosa volete fare? io avevo lanciato esco a prendermi la gloria meritata che gli esci c'erano ancora guardie ci sono anche le guardie quindi non era morta nessuna no ce n'è una a terra si che però l'avevo stabilizzata in teoria ti avevo fatto una prova di guarire mi pare che l'avevi stabilizzata avevi fatto una prova di guarire e invece ti avevo lanciato un cura ferite forse a me no perché al full non avevo preso danno io ho lanciato un cura ferite su yukio si forse su yukio si forse su yukio si forse su yukio l'avevi lanciato no io l'avevo no lui già ha ah tu ok perfetto quindi allora mi amicinero la guardia a terra e darò le mie una manina come posso se vedo che in condizioni gravi uso l'impeatismo di cura al momento sembra ancora svenuto e per terra sta perdendo comunque sangue non sembra essersi ancora stabilizzato quindi se vuoi provare a curarlo se vuoi curarlo con cura dimmi però per quanto tempo mi dura la luce? vuoi che faccio io? quello lo sa la luce ma abbastanza sì forse me luce? mi pare abbastanza sì un'ora dura un'ora luce bene per un'ora risplendi che fai? con sei in medicina quanto sta messo male? no potrebbe andare peggio cioè sì poteva piove la macchia di sangue sotto si sta un po' espandendo ma è normale questi dadi ci proverò ci proverai dai un 13 un 13 perfetto lo aiuti con un paio di garze gli tamponi le ferite e vedi che effettivamente con l'avanzare dei minuti sta smettendo di sanguinare e il suo respiro che inizialmente nel momento in cui ha iniziato a premere sulle ferite che ha iniziato a accelerare si sta tranquillizzando e sembra al momento addormentato ma abbastanza stabile la mia situazione è questo dato di quelli che ho tirato io quindi esco esci vedi i due chierici che sono fuori dall'edificio che appunto stanno toccando il cerchio tutto intorno ti guardano uscire stanno quasi per parlare tu cosa fai? il ballo della vittoria il ballo del... vai esibizione 3 oh yeah quindi è un... il ballo dell'oro 8 oh yeah 8 inizia a ballare devo fare un tiro tira su tempra pronuncia le guarda la vittimata overbolt uno ti guarda non capisce guarda l'altro l'altro ti fissa hai bisogno di cure è imbemoniato hai bisogno di una mano va bene ho appena battuto l'avversario solo perchè gli altri erano inutili madonna dove è finito 3 piali di sotto è un 10 se vuoi ritirare quindi era un 15 un 15 cos'è? è per... raggirare? cosa vuoi fare? persuasion persuasion scusa ma... tu lo dici questo uscito dal magazzino con noi dentro eh sì la magia era stata inutile io col mio suono sono riuscito da parte del nemico con i richiedi che l'hanno sentito anche casino da parte del nemico davvero? ebbene sì io bolstag da damantino ho abbattuto il demone ombra raccontatelo per le strade la cittadina è salva assolutamente i due controllano un attimo all'interno per vedere che effettivamente non ci siano troppo feriti vedono che c'è già gente che sta controllando insomma la persona a terra la guardia a terra guardandovi gli sembra che la situazione sia sotto controllo quindi decidono di correre verso il resto della città di oro per dare la buona novella della dell'eroe bolstag e i suoi compagni ma io avevo preso un indagno ma io bene quindi io cerco nella cosa vedere se trovo tracce dei resti umani che non sono provocati dai cadaveri o cose strane certi magici cose ok fammi un tiro investigazione investigazione 19 di dado più 3 ok inizi a guardare tutto intorno nel magazzino sembra una una struttura molto vecchia probabilmente tempo fa veniva utilizzata per lo stoccaggio di merci ma controllando tutto intorno alla stanza non ti sembra di vedere nessuna traccia di cose spostate recentemente e non riesce a trovare né pezzi di organi né niente del genere ok sembra che oltre a voi in questo momento non sia passato nessuno di qua da tanto tempo ok io andrei dalle guardie per scrupolo un'individuazione del magico e non vedo niente di magico e non vedo niente di magico non vedo niente di magico ok neri su pareti non ti sembra dove dare niente di magico c'è un po' di residuo magico dato dal corpo in mezzo all'aria dal corpo del demone ma poco altro vado dalle guardie vai dalle guardie vai dalle guardie ci saranno arrivate anche guardie nuove non ancora non ancora non sono ancora arrivato comunque c'è ancora qualcuno almeno dei chierici o no sono corsi sono tutti via sono corsi a dare la buona novella ma io volevo parlare con i chierici sono stupidi questi chierici il pomeriggio il pomeriggio qua siamo quasi verso il tramonto no no non vorremmo ancora tanto si avete ancora davanti tutto il pomeriggio anche questi sono furciti via poteva esserci qualche altra cosa non usare voglio parlare con i chierici al tramonto si ok le guardie stanno bene no? le guardie si adesso stanno bene la persona la guardia è svenuta al momento si sta anche riprendendo tra l'altro vi ringrazia dell'aiuto parla un po' con le altre guardie le altre guardie gli dicono che gli avete aiutati bla 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 quindi vi ringraziano vengo non c'è di che però bisognerebbe per mostrare bene questa zona certo e voglio parlare con il vostro capitano certo sì se sento che gli parla alle guardie dico sì tecnicamente qui non abbiamo trovato né i resti umani né niente non si può esserci traccia di niente di magico sarebbe da vedere un attimo dove sono stati portati queste cose e via vorrei tornare a vorrei tornare a all'accampamento del quartiere generale del quartiere generale del quartiere generale del quartiere generale certo infatti anche loro ti dicono adesso la persona che era messa a peggio vi accompagnerà al quartiere generale in modo da anche da curarsi eccetera e mentre il restante aspetterà il resto delle guardie che tecnicamente dovrebbero arrivare perché avete lasciato una persona una guardia a chiamare altre e inizieranno a perlustrare la zona e poi vedranno di perlustrare bene tutte le varie le varie case dei sospettati per cercare di trovare qualcosa quindi venite accompagnati al all'edificio della dell'occhio perfetto e vi trovate davanti appunto il capo Zao il vecchio che vi ormai ha già saputo la buona notizia vi accoglie ovviamente lo vedete un po' provato dalla nottata ah benvenuti salve salve ho saputo che siete riusciti a sconfiggere la bestia si è stato difficile però siamo riusciti si allora vorrei dire due cose si la prima è che mi piacerebbe cioè voglio sapere come sta il prigioniero quello da cui è uscito il demone ok al momento è ancora svenuto è però gli saluto è bene cioè non è sembra respirare non è morto ok se è morto o no non è morto perché vorrei un attimo interrogarlo di nuovo ok e per seconda cosa mi chino tipo mi chino mi chino per cosa perché ho sospettato di lei signor comandante oh mi dispiace tanto va bene è un po' sospettino però perché dici questa e poi ci ho messo un sacco di tempo ad arrivare al coso e avevo faccende personali da fare si si spero mi dispiace tanto di aver sospettato di lei signor comandante non c'è problema l'importante è che tutto sia andato a finire per il meglio si bisogna trovare dove cavolo stanno i resti umani di si infatti dopo appunto aver saputo degli resti umani ho già parlato con varie guardie di cercare tra le varie case dove si aspettati a questo punto proveremo appunto a cercare nella casa di Tomatsu il mercante il vecchio ah il vecchio il vecchio il primo che abbiamo mercato il vecchio sì il vecchio scorbutico esatto cercheremo la casa di Tomatsu meglio e cercheremo appunto anche nelle altre case dei sospettati insomma va bene? va bene perfetto beh grazie mille quindi cosa volete fare? beh insomma ci sarà un compenso ah eh certo cosa? mi morivano persone ci sarà un compenso ma però contro adesso siamo un'occasione anche in altro modo eh sì abbiamo rischiato di morire anche noi sì ma dovevamo aiutare per il compenso sicuramente riusciremo a fare qualcosa adesso devo parlare un po' con altri cittadini per vedere di racimulare qualcosa comunque comunque avete fatto un grande servizio alla comunità anche se sfortunatamente delle persone sono morte e comunque vi dobbiamo ringraziare quello si può i tuoi compagni quindi cosa volete fare? non posso dormire? andiamo io no è ancora presto dai ma ti ricordi come abbiamo passato le ultime notti? va bene dai ma io andrò con Milo a interrogare ma sei svenuto? al momento è svenuto ma poi si riprenderà ho capito non è che ti tolgo ma se chiama l'acqua a Genibre ti sveli subito il fronte era così ma tutto drastico tu devi fare? no ma possiamo vedere il prigioniero? ehm si controllo se sta bene certo certo niente cose drastiche perfetto Isao chiama una guardia prendi un coltello estrai un coltellaccio e continui a mettere tutto il caso per vedere se le spie allora Isao chiama una guardia e vi dice di appunto scortarvi dai prigionieri e vi appunto porta nel sotterraneo dove avevate già visto appunto le celle all'interno delle delle celle notate che le due guardie che erano state sospettate sono state liberate e resta una cella occupata con la povera guardia svenuta al momento è stata presa e messa su un lettino e sembra appunto tornire in modo abbastanza tranquillo si può aprire la cella? si si la guardia prende un mazzo di chiavi vede di aprire la cella vi lascia entrare e aspetta la vicino a voi faccio una prova medicina per vedere come sta l'inizio vai ma che cazzo? dieci no otto otto? vuoi una mano Milu? si è sicuramente vivo perché respira anche io ho 19 medicina ok è sicuramente vivo perché respira non sembra avere lesioni fisiche ma al momento è abbastanza perso nei probabilmente sogni non risponde agli stimoli forse ha qualcosa dovuto alla possessione forse un po' la testa sbaglionata fisicamente è a posto mio però forse qui nei sogni forse state avendo incubi non forse da pulire le ho viste tante di compagno si trago una monettina di ram si e poi timi deve essere conscio o funziona anche quei sogni? controllo controlla vuoi leggere la visione? quando è? non vedo sia specificato perché una cosa è il pensiero e una cosa è i sogni non è specificato si ho pensieri subconsci controllo 2 4 4 ti controllo direttamente la formula lunga dell'incantesimo individuazione dei pensieri allora per la diretta dell'incantesimo un incantatore può leggere i pensieri di certe creature quando lancia un incantesimo e come sua azione in ogni turno finchè l'incantesimo non termina l'incantatore può concentrarsi su una qualsiasi creatura situata entro 9 metri da lui che egli sia in grado di vedere e ok quindi non specifica niente sulla creatura se la creatura scelta ha un'intelligenza pari o inferiore a 3 oppure non parla alcun linguaggio non può essere influenzata dall'incantesimo ok all'inizio l'incantatore apprende i pensieri superficiali della creatura ciò a cui la creatura sta pensando in quel momento con un'azione l'incantatore può trasferire la sua attenzione sui pensieri di un'altra creatura oppure tentare di sondare più a fondo la mente della stessa creatura se sonda più a fondo il bersaglio deve effettuare un tiro salvezza su saggezza se lo fallisce l'incantatore all'incantatore vengono rivelati i suoi ragionamenti se ne fa il suo stato emotivo e una presenza dominante nei suoi pensieri ok qualcosa di cui si preoccupa che ama che odia eccetera se ha successo l'incantesimo se il tiro salvezza ha successo l'incantesimo termina ok in ogni caso il bersaglio consapevole l'incantatore sta sondando la sua mente eccetera 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 ok allora io ti direi che ascoltando i pensieri non senti niente perchè attivamente non sta pensando puoi provare ad andare più a fondo se vuoi e se vi trovo l'incantatore un bambara con bossa un bel po' di olio che schifo non c'è l'incantatore un giù di tutta un giù di tutta un giù di tutta un giù di tutta friziona bene friziona friziona no allora step io ti direi che funziona sui pensieri consci si no stavo guardando perchè qua specifica vabbè che posso usarlo su creature anche che non sono in grado di vedere ah ma praticamente è un o la va o la sparta perchè passo attraverso le pareti però devo beccare la persona giusta eccetera 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 ok no allora io ti direi pensieri consci e se vuoi puoi provare usandolo non senti niente ok se vuoi puoi provare ad andare più a fondo sì e a quel caso sento se magari è preoccupato per qualcosa esatto cioè non senti non vedi non senti ragionamenti perchè naturalmente non ne fa però puoi capire se ha uno stato d'animo eccetera eh allora cercherò di andare più a fondo ok vai più a fondo naturalmente salvezza fallisce in automatico perchè non è non è conscio e senti percepisci che sembra essere molto agitato per quanto il corpo non si muova insomma e poco altro noti principalmente agitazione una punta forse di paura ma niente di troppo prevalente è abbastanza lontano come sensazione ok 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 non sento più presenze di qualche tipo no no senti che è una persona ok non senti qualcuno che lo sta controllando in quel senso ok ok vabbò a posto a posto a posto quindi cosa vuoi fare è tutto a posto Milo? sì è solo agitato magari un pochino spaventato da quello che è successo andiamo a riposare poi andiamo a dare una mano alle guardie non so io ne ho scritto in inventario ho qualche tipo di erba che è bruciata oppure posso fare un olio tipo l'olio alla lavanda sulle tempie è presente qualcosa per farlo calmare per farlo calmare nel sonno non so e guarda nel guarda tu del coso di Stefano nella borsa di la Mago cosa c'è? prova a vedere là se c'è qualcosa se c'è ce l'hai se no devo vedere sull'equipaggiamento e l'equipaggiamento si poi quindi volevate andare in locanda? sì a questo punto andrei a riposare a parte l'inclusione cura ferite non ho avuto i sped perfetto il mostro e quindi un attimo di riposo e poi andare a cercare di aiutare le guardie senza cercare la città perfetto questo è il mio piano bene se vuoi Milo se tu vuoi andare avanti fanno quando se vuoi andare avanti con Yukio e già andare a cercare le guardie vai tranquillo io ho bisogno di riposare io ho bisogno di riposare ci sono giorni che non si riesce a riposare bene già lo so qual'altro riposa tantissimo quindi vi incamminate immagino verso l'albero bianco feci cerca su un mago su un mago perché no? come mai? ci stanno molti mercanti ci stanno molti mercanti quindi arrivi attraversate la città arrivi passate attraverso la piazza principale e posta che tu sei con tutti o sei componenti o un po' 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 ok quindi camminate per la città Volstag noti che molta gente inizia ad abitarti a parlare tra di loro e sembrano tutti molto eccitati dalla tua presenza adamantina saluto si mi sono te avrà fatto una delle sue solite bolstaggate e molto gratate Milo potrebbe andarci quasi bene adesso la gente aveva prezzo invece di schifarlo e minacciarci e chiederci indietro soldi quindi vediamo come si evolve come borsa da studioso da esploratore quindi camminate passeggiate all'interno della piazza cittadina che è abbastanza piena di persone e un paio di ragazzini anche cercano di andarti vicino e di toccarti pian piano e poi corrono via stai felici quindi se chiaramente la gente inizia allora ci sta già sfogendo di mano Milo inizia ad avere il tuo nome sulle loro bocche guardate che grosso ma non ti mangia in tutto quello corre senza fermarsi ridendo tra di loro cosa hai detto quando sei uscito dal magazzino? la verità che ho sconfitto il demon da solo che ho sconfitto il demon avvisami cosa stai immagino della piazza praticamente cagli lui e non noi fondamentalmente si più o meno quindi camminate arrivati più o meno immagino ti abbia specificato del nostro appoggio non c'è stato il tempo sono subito corsi via i chiedici io ho provato a fermarli ma dicevo dobbiamo controllare dentro poi dobbiamo la cosa ci è già sfuggita di mano pesante anche quindi mi fai mi fai mi tiro la di girare per favore 9 di dado 9 eh cos'è persuasion? 9 10 11 12 12 io ho fatto 17 litro ok ok prima ce ne andiamo via di qui prima questa cosa passerà avvisami quando siamo in mezzo alle siete in mezzo alla piazza mi fermo mi fermo se combiniamo qualcosa è solo colpa sua quindi camminate arrivate in mezzo alla piazza mi fermo sotto sotto buona parte della gente si ferma a guardarvi bolstag bollo bolstag si ferma prego e sollevo lo scudo in aria in un grido di pittorine di possanza il mio noio io faccio due passi indietro mi fermo alzi lo scudo in aria e la maggior parte delle persone intorno a te inizia a festeggiare iniziano a festeggiare cori si alzano si hanno dato alla madre si hanno dato alla madre ma non c'è bisogno quindi le persone sembrano essere felici l'atmosfera sembra essersi rilassata dalla dal 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 dalla mattina ma anche io sono felice la gente felice sarei anche felice se fossimo stati ringraziati anche noi sai almeno il minimo l'importante è avere fatto la cosa giusta si ma la cosa giusta non ti danno a mangiare sono io che ti danno a mangiare tu non sei la cosa giusta non rispondere infatti io mi chiamo Mico quindi continuate la vostra strada e la gente vi applaude applaude il grande possente e arrivate davanti a la taverna dell'albero bianco com'è ormai sapete entrate non entrate scusate compagni compagni non è giusto che il possente volstag vada a dormire sempre nella stessa taverna per tal motivo io mi dirigerò verso la taverna del gatto senza un occhio chi ti paga la taverna? me stesso bene ciao ma perché non è giusto che dormi sempre nella stessa taverna? perché tutti vogliono conoscere quali sei mi lo affidati forse meglio così ok però mangia però questa volta non ti preoccupare sei sciupato eh lo so hai perso mezzo mignolo di grasso c'è la chiamiamci conto non credo mi credo mi credo non so hai preso in considerazione del equipaggiamento base dei due classi cioè perché in teoria io parto o con un borsone ferrato o con un pugnale oltre alla borsa quindi ce l'ho uno o l'altro ah ok non l'ho scritto sì 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 e comunque sulla borsa ma ti sicuro che non vuoi che veniamo anche noi? e se volete venire anche voi nell'altra vediamo una nuova taverna insomma che mi basta una roba del genere giusto per cercare di calmarlo nei giorni sì sì l'hai fatto l'inti collocchio diciamo che l'hai fatto non lo vuoi seguire vero? no dammi bene botan ci vediamo dopo sì dopo sì dopo in piazza domani insomma il mattino ok dopo dobbiamo mandare ad aiutare le guardie che ore sono? tre del pomeriggio quindi perché ora ci troviamo? facciamo fare un paio d'ore almeno non so che ora fa buio contate che siete in ottobre cominciamo a fare buio saltiamo la parte della luce la facciamo ancora un paio d'ore questo va bene ci vediamo qua davanti è questa figura luminosa grazie 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 quindi possiamo fare altro poi facciamo davvero un percentuale per vedere se mentre sta facendo il bagno di folla smette di splendere no 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 splendeva ancora ok ok ora però hai smesso andiamo a imparare le luci andiamo a imparare le luci luminoso quindi voi altri entrate all'interno della taverna dell'albero bianco come appunto già sapete all'interno di questa taverna al centro c'è quest'albero dalla corteccia bianca che è praticamente circondato dall'intera struttura dietro il bancone notate questa volta una donna umana dai capelli scuri anche lei figlia della dea della madre e occhi occhi verdi che nel momento in cui entrate vi saluta leggermente e vi chiede appunto se volete qualcosa da bere buongiorno buongiorno io io sono asami un'acca fortuna che non c'è rosa fortuna che non c'è rosa questa è il cercherico no no locandiera ma non è la stessa come? non è la stessa non è la stessa è un'acca perché prima c'era un uomo c'era un uomo alla la taverna no? ok buongiorno signorina asami buongiorno io sono lino ma... lino line with poppy humor in rex banking while Bill Garnasch il topper piacere di conoglierla piacere piacere mi dispiace non so se me ne ricorderà tutti i nomi basta milo basta milo perfetto piacere io e i miei compagni vorremmo mangiare qualcosa il piacere un attimo certo certo prego accomodatevi cosa vorreste mangiare? cosa volete mangiare? cosa c'è nel veloce allora abbiamo abbiamo un po' di carne di maiale principalmente anche essiccata se volete un po' di formaggio di capra e pesce essiccato quello carne secca il formaggio di capra carne secca il formaggio di capra allora io prenderò della carne di maiale e poi prenderò un paio di reazioni di carne essiccata da portavia certo la signorina invece? pesce pesce? perfetto da bere un po' di birra? acqua 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 sia e acqua sia quindi allora tutti a stemmi esatto tutti a stemmi abbiamo due monete d'argento a pasto quindi pa 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 due monete d'argento a testa e per le razioni quanto era? cinque monete d'argento cinque d'argento vai ne prendo qua prendi ma qui che pesano? lo so ma che le avevo finite ah ok quindi no perfetto quindi dopo poco vi porta appunto la carne scaldata sulla griglia il pesce anche quello scaldato no è essiccato quindi pesce e il formaggio di capra ve lo lascio là vi da una brocca di ceramica con l'acqua e vi dice se avete bisogno di qualcos'altro basta che la la chiamate ok io mi guarderò intorno cercherò se ci sono o gli stessi mercanti che l'altra volta hanno dato l'informazione di chi va a partire ok o se ci sono altri allora guardandoti intorno nella taverna non sembrano esserci gli stessi mercanti dell'altro giorno ok però ci sono un paio di persone che sembrano vestiti da mercanti sono in abito da viaggio principalmente e parlottano insomma tra di loro in un tavolo all'angolo del re ok allora mi avvicinerò a loro voglio leggo quindi allora mangio qualcosina poi a un certo punto mi alzo e mi avvicino verso i mercanti perfetto ti avvicini e senti questi due mercanti insomma parlare il primo dice all'altro rivolgendosi a lui come Ryota e dice Ryota ma hai sentito che diciamo qualcosa del come si chiama del lumino eh dell'atomantino no non dell'atomantino del del labirinto di Angok a quanto pare sembra esserci vede che ti avvicini si zittisce ti guarda e dice buongiorno buongiorno scusate se ho avuto ho sentito parte della vostra discussione ah vi stavo avvicinando a voi perché ho visto di aver connessuto come mercanti ero su in cerca di un ingaggio per me e i miei compagni ah certo certo quella è un altro di questo momento in giro ah ok perfetto ah ci c'è anche Yukio insomma quindi state cercando qualcuno a cui fare da guardia esatto ok mi scusi sì sì ho sentito il nome di dottor sì la cosa mi curiosisca guarda ragazzo ti potrei dare qualche informazione in più eh però diciamo che ho la bocca un po' secca io non so se mettere la mano al coltello o mettere la mano alla bisaccia lo potrei fare entrando vedi tu bisaccia coltello bisaccia coltello puoi passargli la bisaccia con il coltello ah ah vediamo se ci capiamo ti dice che a quanto pare c'è un vecchio edificio chiamato il labirinto di Angok vicino alla città di Piagi a ovest della città fuori dai campi in verità leggermente oltre alcuni campi segreti ehm di alcuni contadini che cercano di farlo per evitare le tasse eh c'è un edificio molto vecchio appunto chiamato il labirinto di Angok ehm è sta è una è un edificio eh in verità eh è visibile dall'esterno solo praticamente la parte superiore ehm e si sa da vari racconti di persone anziane nonni eccetera avi che effettivamente quell'edificio eh tempo fa che era aperto portava a una serie di cunicoli sotterranei ehm che durante il tempo un po' per eh paura da parte dei contadini un po' per lusura eh sono stati chiusi e adesso a quanto pare dopo il temporale dell'altro giorno sembra che un fulmine abbia riaperto il il labirinto e si parla nelle varie racconti nelle varie leggende che potrebbe esserci un bel po' di quantitativo d'oro all'interno anche se ehm molte madri ehm spaventavano i figli dicendo che ehm se non facevano i bravi sai le solite cose si 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 l'uomo cattivo se non fai il bravo ti butto nel labirinto o ehm se non mangi tutto il tuo pesce sticcato dal labirinto escono brutte cose quindi questa è un'informazione abbastanza recente vedè ah ok io non lo so ma l'edificio è asci ah ovest di agi ovest di agi ok capisco ehm ma quindi immagino che comunque si possono essere buoni ingaggi per questa cosa qui ehm si tantomeno riuscire a trovare qualche parte di questo fantastico oro beh se avete abbastanza fegato per andare là io sfortunatamente adesso sto andando nella direzione opposta però ehm se avete abbastanza fegato per andare ad agi e entrare nel labirinto magari riuscirò a trovare qualcosa sfortunatamente non va tanto per me io sono più per una vita tranquilla e agiata si dicevo anche io così io mandare al front dobbiamo fare la guerra che ti chiede tra l'altro tra l'altro? agi e lo sussuolo e dove lo dobbiamo andare noi cioè si non mi ricordo mai la video sanno se e carovane che si avviano verso agi diciamo nei prossimi due o tre giorni ehm vedi che parla un po' con l'amico ehm gli chiede appunto gli chiede a Ryota se conosce qualche carovane che va verso agi e e Rory dice che sfortunatamente lui va appunto verso te quello con cui stai parlando ti dice che va a Okaichi e invece Ryota va verso Nomoku ehm però forse controllando un pochettino si riuscirebbe a trovare qualcuno che magari qualche agricoltore ci siamo dovuti sapere certo nessun problema poi ci si rivede qua ci si bevano i miei insieme con i piedi e torno da loro perfetto ehm no hai trovato in indaggio? forse si ah ok forse si ok io non so ho parlato con i nostri mercanti che sono a quel tavolo loro sfortunatamente non vanno verso Nord però vi ho chiesto se possono cercarci una carovana a cui far da guardare però mentre iniziamo ho sentito una cosa che potrebbe essere interessante cioè? noi dobbiamo andare verso Agi sì vicino Agi ho sentito direi ai mercanti c'è questo posto che effettivamente potrebbe valerci sia un po' di oro sì sia potremmo dare una mano ai contadini delle zone che potrebbero essere spaventati è fatto che lì questo posto sotto dovrebbe avere una specie di villa di Vinto con dei cunicoli e quanto pare i cunicoli erano chiusi poi il temporale dell'altro giorno non è riaperto qualcosa alcuni contadini sono spaventati questo lo stai dicendo solo per Milo vero? poveri contadini io ho tipo mezza faccia di bozo da trarire come la merda sono proprio spaventati poveri contadini esatto devo fare un tiro a conoscenza penso che devi fare un tiro a conoscenza se vuoi puoi fare storia senza storia si 13 di persuasion per convincere Milo in storia io ho più 5 in storia eh quindi è un 19 totale un 19 totale? si sai le cose che le cose che ti ha detto sembrano effettivamente veridiere sono 18 va bene vabbè non cambia niente sembrano essere effettivamente molto veridiere quello che ti dice ehm tic sull'occhio corrisponde a quello che sapevi del labirinto delle varie storie qualche storia che era arrivata anche un po' a Miloia soprattutto è un po' una 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 zona Onara Koyo basta parlare delle disgrazie altrui ridendo ok ok è un po' una zona una zona è conosciuta nell'aria non è così nascosta esatto no è non è facile arrivarci ma è conosciuta nel dalla popolazione ok quindi probabilmente se appunto parlate con un po' di persone sicuramente riuscite ad avere delle indicazioni ed è comunque una 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 cosa succede? va bene va bene va bene perché comunque sai che è un edificio molto vecchio molto molto vecchio in curiosità non mi ricordo qui in questa città c'era una biblioteca? no no adagi è una biblioteca ok infatti dopo in caso posso fare qualche controllo in più ma devo essere adagi qui non ci sono biblioteche adesso aspettiamo aspettiamo che i mercanti mi dino una risposta se c'è qualche parola quando arriviamo adagi ci prendiamo un paio di giorni per studiare la cosa con cari bisogna me dire posta lo vediamo fra un paio d'ore tra l'altro quando io ho iniziato mi avevi detto che io sono in contatto con maghi delle varie scuole che mi fanno dei favori sì puoi parlare con alcune cioè essendo all'interno del circolo dei magi puoi chiedere favori all'interno di biblioteche all'interno di scuole di magia eccetera per magari avere accesso ad alcuni libri per cose del genere ah ok cioè chiedere informazioni esatto magari informazioni un po' più riservate eccetera questa cosa qua QUINDI in tutto questo cercando di fare tipo il pifferaio magico cercando di fare il pifferaio magico con la corna musa comincio solo nella corna musa e mi incammino verso la taverna ok merda tanto hai fatto? oh ma tu a intrattenere fai sempre solo tre di dado cambia dado guarda tira questo per scrupolo vai tira andiamo otto è abbastanza sulla gomma dai va bene quindi cosa hai fatto? quindi tre più due più due fa sette più uno otto wow quindi oh yeah otto inizia a suonare non ti viene fuori una un fiatone per il combattimento e soprattutto per la strada anche per ricamminare mamma mia e fai un po' di fiatone non riesci a suonare al meglio delle tue capacità anche perché diciamola tutta sta anche venendo un po' di fame e non aiuta quella si sa che una pancia piena riempie meglio la corna musa la corna musa esattamente quindi inizi a camminare nella direzione in cui sai esserci la taverna del gatto cieco quindi cammini eh sfortunatamente non ci sono persone che ti seguono a causa del del maltempo no il fatto è che in verità la gente non capisce la tua incredibile le tue incredibile musica eh e fai una musica così tanto avanzata così tanto soave che il volgo non 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 l'apprezzano eh sì quindi arrivi davanti aspetta che schifo me ne accorgo che non c'è nessuno che non apprezzano che non apprezzano a farmi fammi un tiro ehm wisdom con svantaggio perché stai intitolando perfetto era un 13 e poi un 2 e un 2 punto eh no non te ne accorgi direi che non te ne accorgi vai tranquillo arrivi alla taverna del gatto cieco eh questa taverna è un edificio completamente in legno abbastanza basso e nella stessa zona dove eh c'è stato l'incendio del del mercante dell'altro giorno e e ti ritrovi appunto questo edificio abbastanza basso un piano e all'interno senti suonare un po' di magica senti suonare della musica senti suonare della musica entro entri e all'interno vedi ehm una una stanza abbastanza spoglia eh c'è ci sono il minimo indispensabile tavoli sedie non di ottima fattura e in buona parte del mobilio sopra ogni praticamente mobilio sopra quasi tutti gli spazi presi eh liberi ci sono dei gatti ehm ci sono vari gatti e io c'ho il cane dietro e tu c'ho il cane dietro quindi apri una volta vedi gatti un po' ovunque dietro il bancone quella che sembra essere una signora eh capelli bianchi leggermente unti che ti guarda con uno sguardo sembra essere abbastanza vecchia da mezza età forse di più che ti guarda con occhi uno dei quali leggermente vitro e vede il tuo cane e ti inizia a urlare qualsiasi cosa le altre stelle fuori da qui tranquilla signora tranquilla il mio cane non ha nulla che non gli interessa ai gatti lui mangia solo sano come me carne a volontà ma non di gatto ma Giga che sta facendo davvero? Giga sta guardando i vari gatti e io guardo Giga Giga no Giga una prova ad estrarli animali così che gli compro un un mensaglio sembra fortissimo eh quanto? 13 e su a destra di animali a destra di animali a destra di animali quindi più 0 però il più 1 quello è di 14 14? ok Giga quasi parte riesce a fermarlo giusto in tempo e sembra essere molto teso lui molti dei gatti iniziano a gonfiarsi e guardano male restano fermi perché sono stronzi i gatti restano fermi si gonfiano e guardano Giga però non sembra correre all'interno per cercare di ammazzare gli dai un pezzetto di carne gli dai un pezzetto di carne bravo Giga stai buono adesso mangiamo cose buone non i gatti perfetto e poi hanno le pulci quindi entri perfetto entri all'interno della stanza noti sulla stessa parete dove sei entrato sull'angolo sulla destra una serie di bardi sono due uno con un tamburello e uno con uno strumento a corda come Paolo si chiama liuto no quell'altro quello bling 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 quello con la palettina penso che il mio eh lo shamisen quello faccio una prova per vedere se li conosco abbiamo fatto l'accademia insieme fai non credo è un bellissimo 4 più poco storia do più intelligenza per ricordarti allora un 4 un 4 io direi che probabilmente sono gente che ha preso non sei sicuro neanche abbiano fatto l'accademia sinceramente ma stanno suonando una musichetta abbastanza scherzosa troppo scherzosa questa è la bosta una muschetta felice 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 e all'interno della locanda noti un po' di persone appunto principalmente gente del luogo non vedi tanto i mercanti e appunto la nonnetta vedendo che il cane non è un tratto di corsa per uccidere tutti si è un attimo calmata ti guarda e ti dice buongiorno salve 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 cosa cosa ha da offrire alla taverna da offrire abbiamo a un valoroso guerriero ci provi con la vecchietta no spargo la voce del possente un valoroso guerriero dici ebbene si ho appena sconfitto con la mia compagnia la compagnia di Boerster si sono io Boerster ok il demone ombra che infestava per questa città ti prego 9 madonna niente 9 stai per qui stai per qui non è Boerster 9 10 prego un po' e un 14 un 14 ok quindi la nonnetta l'occhio non vitro si apre leggermente e dice aah è un piacere di averti qui allora sediti sediti prende un gatto e lo sposta risalta sopra lo riprende e lo sposta stai giù stai giù stai giù abbiamo pesce se vuoi della migliore qualità e anche birra sono sicuro ti possa piacere e della carne ah si dovremmo avere anche nella carne ma in cucina con un gatto doppia razione di pesce doppia razione di pesce una di carne per il cane e una birra e una birra perfetto il costo sono per il pesce 2 d'argento in totale quindi 1 e 1 9% e 1 d'argento per la carne e per quanto riguarda la birra la vuoi con tazza o gallone mi dai il mio corno mi dai il tuo corno che quanto è grande è un corno è un corno una bacca ancora 3 no 5 monete dita ok meno 5 ok quindi mentre aspetto mentre aspetti deposito un po' di roba allo del mio posto prendo lo strumento e cerco di attaccarmi con la musica agli altri bambini ok vai ti prego 3 ma che fai quando tiri così tu fai sempre 3 per curiosità io ho tirato anche 11 e 2 io ho tirato anche per gli altri ok ho iniziato a suonare a tutti e tre in modo orribile ho fatto 4 e 2 mi dice aspettate aspettate riproviamoci riproviamo giga dai il tempo 5 5 5 5 5 è un 10 è un successore è un successore è un successore inizi a suonare niente tu devi stare di merda per suonare bene il tempo quando hai fatto 10 totale ok inizia a suonare gli altri bardi ti vengono dietro ogni tanto cioè vedi che sono molto bravi a suonare probabilmente siano rimasti un po' straniti dal fatto che ti eri unito così a loro e iniziate a suonare io immagino questi due entrano in look and a bosta con questi due cazzo e bosta no merda merda non guardare non guardare merda aspetta non ce li hai conosciuti ok ok poi arriva a merda no cazzo esatto iniziate a suonare una melodia allegra e effettivamente buona parte delle persone nel locale sono abbastanza felici dico codesta melodia e alcune monete vengono inserite insieme alle altre monete del gruppo ti odio beh noi suoniamo niente perfetto hai iniziato a suonare e dopo un paio di minuti la nonnetta ritorna con il tuo cibo finita la canzone finita la canzone finita la canzone finita la canzone vado a mangiare vai a mangiare i due Barbie ti ringraziano per questa gem insieme tranquilli poi torni esatto e che bene che culo e inizia a mangiare in tranquillità quindi finito dal mangiare cosa vuoi fare? torna a suonare torni a suonare e fammi un altro tiro e via così 19 19 oh mamma mia 24 e che avevi fame questa ragione con lo stomaco pieno e l'animo rasserenato inizia a suonare in modo magistrale gli altri due quasi non riescono a starti dietro guarda quanta bravura all'improvviso e all'improvviso hai tirato fuori e altre un'altra moneta d'oro e altre due d'argento sono aggiunte allo sacchettino con i soldi del gruppo e poi si divide questi ragazzi si divide bene quindi finito in tutto ormai dopo appunto aver suonato un bel po' noti che sono appassate appunto queste le due ore che che dovevi aspettare per ritornare insieme al resto del gruppo scusate parlo un attimo con i due bardi insomma abbiamo lavorato bene si il nostro lavoro è stato ben valutato si propongo di dividere in tre parti uguali da quando ho cominciato quindi la prima parte questa vostra ma è un'ottima offerta poi vorrei anche fare il copiere della situazione va bene mi sembra giusto grazie Armando mi sembra giusto eccoti cosa l'ho detto una un altro d'or un altro d'or e poi dopo prima non lo senti qua eccoti 5 d'argento oh con 5 d'argento già mi gli favo il pranzo che felice quindi è come dire che ho 4 d'argento più 5 d'argento poteva andare meglio poteva andare peggio però anche oggi paghiamo domani il pasto perfetto quindi il doppio pasto serve a questo punto sfrutto le cose di rame che mi avanzano e prendo due razioni da portarmi io sono cinque da regento a razioni prendo tutto il rame no penso che lui intenda come fosse un pasto che ha preso ah ok ok allora sì quindi arriva più o meno ci rivedremo suppongo all'accademia ah certo 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 ed esci in tranquillità con giga che fortunatamente non ha morsicato nessun l'ha visto signora che il buon giga non ce l'ha corrigato eh meglio per lui meglio quindi se no c'era la carne oggi esatto arriva il tramonto ok benissimo Milo io devo parlare un attimo con Aisy vuoi voler tenergli qualcosa si ma io voglio chiedergli giusto se ha qualche informazione sul labirinto chiedere che approfittane sì io voglio sapere come va in paesi e se stanno tutti bene certo miei e se ha notizie dei miei genitori sono dei problemi e poi insomma se sa qualcosa di questi demoni che escono dai bruchi astrospaziali sì come astrospaziali dove le impari queste parolacce tu è la cittadina dei balbi non è una parolaccia è cultura cool ah aspetta faccio fare pratica a yukyu a scrivere oh bravo bravo io prendo la pietra ok e il messaggio esatto aspetta che controllo il messaggio esattamente no deve tirare yukyu no sì sì no quello sì ah deve tirare yukyu eh sì sì deve tirare yukyu ah deve tirare lui no ok quanto è di intelligenza? no 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 ha fatto un 17 totale quindi tu sa scrivere benissimo il suo nome benissimo o no si ricorda si ricorda quello che aveva imparato ieri esatto si ricorda bene quello che aveva imparato ieri che c'era il culo esatto quindi è riuscito a scrivere yukyu e tu stai iniziando a fatti capire ma gli ideogrammi in sto mondo o con le lettere rompe? con gli ideogrammi quindi sì sì ma vabbè comunque diciamo che bene o male dai vabbè però ci sta dai ci sta ci sta ci sta ci sta gatto, gatto, papagallo, polipo nooo cazzo è vero e comunque se non sai ne leggere lo scrivere non è facile leggere e scrivere sì vabbè appunto ci sta che ci sia tanto allora cosa facevo messaggio esattamente? devo vedere solo questo perché devo stare un attimo attento se puoi parlare quanto puoi parlare perché ci sono alcuni tra l'altro io ti informo vabbè anche lui ma che se possibile vorrei stare un giorno ferma in città e non andare in giro perché tanto perché vorrei provare a evocare il mio famiglio beh possiamo farlo come sono ad agi sì nel senso ovvio se arriva la caruana sì però bisogno di 24 ore va bene quindi certo possiamo approfittare tu fai questa cosa per il famiglio io e lui andiamo a cercare informazioni sì perché in biblioteca mi piace studiare quindi se lo riesco a fare ok un messaggio qualsiasi messaggio ok comunque un massimo di 25 parole un messaggio un messaggio di 25 parole e lui ti risponde no non ho bisogno di 24 ore no abbiamo il racconto il tempo di lancio è un'ora bisogna solo di un'ora abbiamo affrontato bisogna 24 ore qua ci sono ogni come se non ci fossero domani ce la stiamo cavecchiando forse ci dirigeremo verso il labirinto di Hengok qualcosa Hengok non sei rilevante di finire questa discussione forse siamo già intorno alle 25 parole esatto ma solo perché è bosta che grande esatto e ci dirigiamo forse verso il labirinto di Hengok siamo sulla strada per andare verso l'accademia come da te come da te allora hai chiesto dei genitori no? no ok vabbè allora ho finito le 25 parole potevi tagliere qualche anche beh forse forse vabbè dai lo facciamo domani quindi allora ti risponde qui tutto bene ehm spero nulla di grave per lioni ecco l'interno qui tutto bene no sono qua tu puoi evocare lisa abbiamo ancora 15 parole cosa gli hai chiesto scusate stiamo andando verso l'abituto di Hengok ok ok e qua ci sono ogni come se non ci fosse un domani ok ti dice di stare attenti al labirinto procedete con la tela semplicemente e comunque in qualsiasi caso buona fortuna se avete problemi ah c'è sta il cavolo ma io capì questo ok corrugo ok fai falco gatto quindi cosa volete fare io sono andato al punto di ritrovo tu sei andato al punto di ritrovo mi ritrovarti adesso ci ritroviamo tutti insieme perfetto e andammo ad aiutare le guardie a sottacciarli poi c'è perfetto e quindi facciamo una piccola pausa se vuoi no facciamo una piccola pausa facciamo una piccola pausa sì sì facciamo una piccola pausa devo un attimo quindi ok corpo falco farina capra gatto come state ruffo fa caldo certo ragno rana allora apriti ugo quindi piccola pausina per noi piccola pausina che problemi hanno avuto i microfoni ragazzi io non ho toccato niente giuro forse io ho parlato basso no no hanno detto che uno dei microfoni non andava il microfono è successo due volte che tremava il microfono tremava il microfono? si io non ho toccato niente giuro e va bene va bene quindi pausetta faceva tipo si allora probabilmente qualcuno fosse da sotto va bene l'importante è che sia tutto a posto qua Giuseppe sai cosa il cavalletto è attaccato al tavolo forse muovendo il tavolo occhio state attenti mi dispiace mi devo spostare voilà forse dovremmo aver messo a posto perruzzamolo ad un certo punto si sentiva un piccolo il gottero allora probabilmente era Stefano con la gamba si perché io muovo la gamba esatto se il microfono è attaccato alla piattaforma del tavolo esatto comunque grazie mille a Giuseppe che ha fatto due mesi di sap due mesi che schifo che schifo grazie Giuseppe grazie mille sono due mesi sarà tutta colpa di Ugo no povero Ugo povero 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 dai sono felice che una delle cose che ho preparato almeno servirà si il macigno il macigno invece le caratteristiche dei celestiali cioè le cose celestiali perché posso evocare il celestiale o il mondo il famiglio ah semplicemente celestiale è buono e il mondo è malvagio ah non cambiano le statistiche non dovrebbero cambiare le statistiche solo l'allenamento ci sta piacendo la sessione per ora amici in chat che è abbastanza tranquillo al momento si vabbè ma avete appena finito un compartimento ci sta non ho ho terminato il casino comunque sono morta quando andavo a non è cosa parlare con Giga ma perché non ho ancora gli incantesimi lo so devo dormire lo so non sono morta quando lui fa la cosa e quando fate ah Volstagg che unto no e in chat hanno detto hanno citato i simpsons ungimi donna sono morta tantissimo che è brutto che è brutto che è brutto che è brutto non guardatelo oh si frizzi frizzi va bene non guardatelo non penso di voler sapere di cosa no infatti ma lancia croccola che bello ora però tiragli addosso uno sciame di viverne fatta no perché ci volete così male all'improvviso non so se è già stato detto nella prima cavolata ma come sono finiti insieme questi quattro sono nati e cresciuti nella stessa cittadina io non sono nati e cresciuti vabbè cresciuto siamo cresciuti in quella cittadina e poi il mago della città ci ha mandato in giro a fare per le varie scuole ad addestrarci e ci ha chiesto di andare insieme in missione per lui a fare non sappiamo ancora cosa punto intanto adesso ha un gruppo di persone che lo aiutano in caso quanto stretto eh lo so scusa no no quindi paraparaparaparapà no vedi i val dice che aveva iniziato oggi a seguire piace milu vedi 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 ma volta che ha allineamenti orientali no le razze non umane hanno i tratti di razze non umane quindi abbiamo scritto intanto il ranger che ha tratti orientali più una specie di elfo orientale si che schifo si con i capelli biondi che schifo si perché gli umani forse a camminamenti orientali no no abbiamo appena detto eh vai io non c'erano perché gli umani sono suddivisi in civiltà all'interno del mio mondo quindi abbiamo quella più medievale che è nel continente nord medievale europeo a ovest abbiamo appunto il grande continente della dea della madre e ci sono i figli della madre che sono appunto umani da tratti orientali e poi abbiamo a sud un casino di orchi e roba molto brutta roba molto brutta beh non vedo l'ora prima o poi dovrete andarci no si invece si ma anche più tardi possibile si sente ancora l'elicottero nel microfono se no io sono fermo cioè forse è la tua borsa ma è ferma è una borsa no infatti io sono fermo con l'elicottero e non so non so o è l'aria e fa strano fa strano non lo so e proverò ad ascoltare poi e a est un mare molto grande e a nord un mare molto grande e a sud un mare molto grande e a ovest ovest un mare molto grande a ovest ovest esiste l'hovest ovest e io sono andato in armatura che figo eh sembra che stai bruzzando no? no che cazzo no vi prego sembra un rumore statico più che un suono preso dal microfono e allora sono i cavi se faccio così mi sono spostato anche il microfono si sente? hai notato a me il microfono faceva sin interferenza scoperto che andava in conflitto con il microfono della webcam ovvio no non può essere non può essere ma è il tuo rumore di caffè? puoi quello sicuro non è eh non lo so eh hai il microfono hai il cellulare qua vicino? no eh magari non sui cavi grazie Stefano abbiamo risolto stefan aveva il cellulare sui cavi ah no appoggiate sopra la sedia ah ora non si sente ora si a lei grazie grazie il vostro risolutore di problemi è qui per voi tiro da girare 17 ti sentito solo in due o tre momenti prendetemi ok va bene grazie Stefano ma quindi per avverti dato una mano a introdurre la cosa grande che ci hai nascosto prima sotto il tavolo mi dai qualcosa in più? quando la riuscirò a usare in sessione si forse qualche secondo in più tutto guadagnato tutto guadagnato tutto guadagnato però almeno di fare i test scientifici il test scientifici ah non si mette il telefono e le mandiamo un messaggio no ma è sicuramente quello è sicuro perché sui cavi non dovrebbero essere cavi non sono cavi schermati quindi gli da fastidio alle interferenze radio quindi io ho bisogno di acqua che ce l'hai qua ce l'hai da ce l'hai ovunque non so acqua ovunque acqua voglio quindi allora noi tra pochissimo appena run finisce si ricomincia ti immagino si c'era Stefano con il cellulare sui cavi eh complimenti io l'avevo buttato sulla segna ma Borso e sente ancora la musica? credo di no 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 non più tranquilli comunque appena dormo tenterò di lanciarlo però è ancora blu giusto? si quello si io voglio restare blu non c'è problema per quello sicuro la bottiglia d'acqua riempita la metto in frigo? si l'hai riempitato prima no? se vuoi ti affore anche la coca cola ce l'abbiamo si dovrebbe essere un po' più fresca esatto product placement dopo qua no? penso di si togli l'etichetta togli l'etichetta ma non serve è chiaramente prodotto piazzamere comunque sai cosa? io non avrei detto il blu del diamante ma io avrei detto blu come la spuma del mare lo so però è un nano eh lo so lo so però ci stava bene con il dio del mare che ti concede il colore della spuma già così non voglio sapere cosa succederà prima o poi potevamo portarla però a miniatura del mare del dio del mare ci stava bene quella lì del gioco beh comunque bisogna dire che nel nome del dio del mare ho già battuto un del mare non nel nome di un dio del mare è più nel nome di un holstein che ha battuto qualcosa si ma negli scritti viene messo in risalto il fatto che lui era dell'aralto vediamo di percentuale come vai di percentuale male essere blu non comporta problemi è un nano blu può essere un problema abbiamo fatto un calcolo delle tonalità e non era blu e azure se non sbaglio il piccolo popolo di precheter era blu se non sbaglio c'era qualcosa di blu non lo so ma non ho letto mai quei due mi mancano dico solo che per tutti quelli che non pensano che sia una cosa brutta se sei blu sei riconoscibile esatto ma vabbè che quella mia stanza è ugualmente riconoscibile si tutto è riconoscibile forse sega per la stanza di bolster tu hai tutto il pantone dei blu cioè l'uno all'altro si poi nelle pieghe sei più scuro poi bolster vuole essere riconoscibile no lo so lo so quindi io mi immagino semmai tu dovessi essere camuffato può essere anche una brutta cosa ti servono 5 palette di colori per camuffarlo paletti ombretti e colori vari e il mio cellulare arrivo subito quindi vogliamo ricominciare? certo qua ricominciamo comunque dicono che finchè resta da quel lato del tavolo è un product placement per a lock a lock vedi? la lock a lock magari che la prossima volta prenderemo o la cola dell'euro spin o qual era quella dammi dammi la freeway no ma non la freeway ce n'è una peggio quella slovena la cocta la cocta porca città che brutta che è la cocta allora scusami ma la prossima live bisogna fare il malessere completo cocta e anche ez de vita oh no peccato non ci posso essere nella prossima live che vero peccato accidenti cosa stai cercando di fare? grandi idee grandi idee quindi ricominciamo vi ritrovate tutti insieme al centro della piazza immagino del villaggio che è uno dei luoghi più riconoscibili e facilmente trovabili la maggior parte delle persone ormai sono scemate sono andate verso la casa cosa stai cercando di fare? lascia stare albi fa niente credo la prima è cola la vai la Q è cola Q è cola vai fai la Q è cola la gente non sta ritirando il pledge di questa cosa quindi iniziamo si mettevo venire i cellulari si sono in lutto per il starter che non va avanti va bene posso avere un po' di Q è cola aspetta la prima deve essere creata hanno appena ritirato un pledge e volevo prenderlo ma no è stato gennaio a Prigli non cambia niente quindi quindi vi ritrovate tutti insieme al centro della città e cosa volete fare? mangio ok tu ti mangi quelle cose che restano quindi la terza razione al giorno ok io cerco un gruppo di guardie di marginali e mi avvicino loro e gli chiedo i gruppi che stanno setacciando la città dove sono e a che punto sono ok allora abbiamo già setacciato la casa di Itomatsu che ne avevamo in realtà anche già fatto non c'è niente all'interno attenzione ora da quello che so c'è un gruppo di guardie che sta setacciando casa di come si chiamava la guardia quella svenuta adesso ve l'avevo detto Katashi Katashi infatti ok quindi stanno appunto cercando all'interno di casa di Katashi non so ancora se hanno trovato qualcosa comunque la trovate là a nord subito vicino alla curva a nord delle mura di legno dovreste riuscire a trovarla abbastanza facilmente allora ci dirigiamo ci dirigiamo verso di là vabbè posso avere un po' di quecola io volevo dirtelo però dopo ho aspettato mi finisci tutto sai che la messa di pensava con la H e non con la K chi non lo sapesse non c'è neanche la N la KK è stata creata dal personaggio di Rosa che sfortunatamente ha cambiato città quindi non è più con noi però abbia sing sing e peraltro forse ci sta seguendo forse ci sta seguendo ciao Rosa in caso e niente quindi andate perfetto andate verso nord e arrivate in questa piccola casa una casa relativamente piccolina da quello che sembra non è un un quartiere ben agiato ah si per strada formo il buon milo ho visto compagni Barbie nell'altra taverna ah si si è molto più bella molto più bella più c'è più animo più spirito è estremamente musicale bella perchè l'hanno chiamata Gattucceco allora? eh vieni a vederla impagabile 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 magari poi ci andiamo perfetto quindi camminate tutto circondario formato da case relativamente basse schiacciate la maggior parte sulle mura e arrivate in questa piccola casa dove varie guardie sono all'esterno alcune sono all'interno stanno cercando e nel momento in cui arrivate eh le guardie sembrano riconoscervi bene o male i mercenari quelli sono quindi bene o male vi hanno già intravisto e vi dicono che sembra che abbiano trovato qualcosa dove? al primo piano della casa sotto il letto c'era scavato una serie di buche al cui interno sembrano esserci stati ritrovati dei degli organi questo è in casa della guardia? c'è Noboru come? c'è Noboru no non c'è Noboru e Takeo non c'è neanche Takeo comunque se volete entrare controllare ci so potete direi che ci avete aiutato più che abbastanza da potervi lasciare passare quindi entrate effettivamente notate un bel po' di persone il letto è stato spostato e per terra nella terra ormai vedete appunto delle buche con all'interno quelli che sembrano essere effettivamente resti sporchi di terra controlli tu? si vai tranquillo Milo vai sempre medicina sempre medicina? sei sei totale? si con il fatto che sono pieni di terra non sei sicurissimo che siano organi umani provo a fare medicina sono chiaramente lingue sono chiaramente occhi ma non sai se sono umani oppure no medicina? ti vedo indeciso sono organi davido e dai quindi hanno 14 totale 14 totale? è molto probabile che siano umani ma sono umani? non vedi che sono umani? no ho visto sono tanto a terra ok però dovrebbero essere io ha detto che ho fatto io no no ha detto lei sono umani non voglio guardare io svolazzate 20 sono umani sì che sono umani sì che sono umani ok prendo sto occhio c'è lo stesso coloro del cadavere che abbiamo controllato ieri sì a proposito e quanti resti cioè di quante persone è possibile no? sembrano con baciare più o meno con quelle che abbiamo trovato sì sono disposte cioè le buche sono disposte a caso al momento da quello che vedete sembrano essere disposte a casa sembrano essere state scavate e tenute là ok io cercherò se ci sono documenti, carte, papigli buonissimi investigazione ha sceso a 5 e basta 6 vuoi provare con i 3? cosa? per cosa sta dire? c'erlo, carte, scartoffie mi porta un sacchetto per piacere sì grazie dai aspetta Milo ti porta un sacchetto ok wow oh fammi intiro dentro Milo ma perché? sono presa a guardar scartoffie immagino finisci e vomiti la buca di terra vuota è Milo la guardia si avvicina? prende il sacchetto tutto bene? non con io ok Milo ti prego Milo dai fuoco per piacere dà fuoco mi ti porta fuori si buca l'accelerone acciarino dai fuoco quindi Milo un po' distrutto 5 il secondo stiro tempo un po' provato un po' tanto provato mi chiedo un attimo si chiedo un attimo gli gira leggermente la testa oh qualcosa tra le varie erbe no deve probabilmente uscire tutta la stanza è impregnata di un odore molto forte che non aiuta aspettaci fuori Milo mi arrivo solo a dare una boccata d'aria si ma aspettaci fuori Milo e vedi i fumi che saranno vedi andato dai fumi no poi dall'altra parte non dove c'è fumo Milo non penso di poter essere andato dai fumi sono alto uno scherzo o i fumi rasentano il terreno o non lo mettono c'è lui che sta mettendo sul fuoco su di te su di te ok investigazione quindi per trovare carte e cose si 16 più 3 19 ok cercate entrambi notate poche cose scritte davvero poche notate quello che sembra essere un contratto per appunto il mercenario con quantità di soldi che la gilda che non è proprio una gilda gli deve e poco altro all'interno della città della stanza non sembrano esserci libri non sembrano esserci altri altre cose scritte tra l'altro ritorniamo full di incantesimi perché il giorno dopo o è la sera stessa? no è la sera stessa magari quindi che volete fare? andiamo a dormire? a questo punto si nanna? voi avete trovato qualcosa? no niente niente il contratto da mercenario e poche altre robe simili voi dite che do un'occhiata io? se riesci a stare in piedi per farlo? non lo so riesco a stare in piedi per farlo dai abbastanza in piedi dai dai almeno per provarci do giusto uno svantaggio mi do una mano non so se posso dargli un vantaggio si si no penso che mi togli lo svantaggio se mi do una mano tira undici investigazione no? si quindi tredici totale tredici totale? non ti sembra di trovare niente che loro non hanno già trovato ok andiamo 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 a dormire si in caso torniamo domani ho bisogno di riposare tutti abbiamo bisogno di riposare ok torniamo in locanda vogliamo provare un'altra locanda? io ho un appuntamento con i mercanti con cui ho parlato prima si in caso quindi se volete andare su Milo se vuoi andare con voi stai vai tranquillo vuoi andare nell'altra locanda? si vieni vieni così ci suona qualcosa facciamo anche un palco è un palco bellissimo però i palco mi mettono un po' d'ansia stai sotto ok stai sotto io torno in locanda torno in locanda con Yukio e non so se vuoi venire anche tu o vai in locanda con un gol con Milo no no sognuno di dormire quindi voi tre tornate nella locanda dell'albero bianco mentre gli altri due vanno verso la locanda degli appg iniziamo con gli altri due quindi camminate legno è una baracca di legno quasi sei sicuro che tranquillo, dentro è più bello dentro è più bello è accogliente, c'è la musica c'è ancora musica dai, sopra o sotto io dico sopra non sembra esserci musica dei sicuro che è questo il posto si, tranquillo ma questo è per una baracca ma dentro ti diverti fidati ti ho mai deluso no apri la porta apri la porta vedi appunto una distesa di gatti la signora di mezza età che ti guarda salve salve siamo tornati non mi tiro a destrare animali ma dai l'ho nutrito l'hai nutrito è un zero zero non è Gatti zero è uno è uno queste sono le decine queste sono le unità Gatti Gatti e quindi entro a carico aspetta, aprite la locanda cioè faccio per entrare vedete entrambi Giga che il cui pelo inizia ad alzarsi inizia a gonfiarsi sta per correre sta per correre all'interno la nonnetta con l'occhio vigile si apre inizia a urlare 12 si calmi Milo salta se giga più o meno ferma l'orso enorme e cerca di tranquillizzarlo è comunque molto teso Giga guarda qua e lo faccio annusare Giga si ferma si tranquillizza un attimo e ti mangia anche le dita nel prendere il ora buono il pezzettino di carne è buono che succede? tu ti rendi conto che il sangue sta bene con il blu della tua pelle quindi entrate ciao signor gatto ciao signor gatto ciao signor gatto ciao signor gatto dimmi che gatti non hanno nomi e ha detto volta che io mi divertirò un sacco esatto quindi quindi la nonnetta buongiorno signorino buonasera buonasera salve 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 volete qualcosa da mangiare? eh sì ho visto che ha tanti gatti abbiamo pesce e tanti gatti e hai tanti gatti ti piacciono i gatti? a me piacciono tutti gli animali eh non sono bellini i gatti sono belli i gatti anche gli altri animali sono belli ma i gatti i gatti anche sono bellissimi eh sono proprio belli i gatti ma ci sta tanto con la testa se si va eh la combinazione di voi due che la faccio cosa ci offre signora? ti ho detto il pesce abbiamo del pesce del pesce la carne siccata sfortunatamente è già stata finita da qualcuno ah però potrei avere ancora un po' di pane e birra acqua e birra acqua acqua va bene e latte se volete c'è anche del latte eh un po' di latte un po' di latte col pesce col pesce in pizza del latte va bene mi piaci tu ahahahah magari metti il cibo preferito dei gatti per questo ti vuole bene bene tu invece come tu vuoi? bene il pesce 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 come prima doppia razione sì del latte per per giga e poi di nuovo il corno ok allora il pesce sono una d'argento il corno sono abbiamo detto cinque di rame e acqua latte una di due di rame due di rame e una d'argento per il pesce sì ho abbastanza monete dietro tipo otto monete d'oro ho sette monete d'oro sei di rame e tredici tredici di rame e sei d'argento dovresti riuscire a vivere per un po' quindi quindi cosa volete fare adesso? quanta gente c'è? c'è gente? che gente c'è? allora ci stanno i bardi di prima magari stanno mangiando facciamo una jamesetta a 4 attenzione io mi sto perdendo i dadi qua ok allora da quello che vedi la gente principalmente è di nuovo sempre del posto non sembra non sembra esserci tanta gente con vestiti da viaggio un po' più tranquillo è effettivamente a un tavolo ci sono i due musicisti che stanno tranquillamente mangiando al momento Milo Milo vieni andiamo a parlare proviamo a fare una cosa ma si ce la porta al tavolo ce la porta al tavolo ciao 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 buongiorno buongiorno quindi cosa volete fare? mi hai guardato al tavolo di Bardi arrivato al tavolo dei Bardi vedete che stanno mangiando stanno parlando un po' tra di loro li riconosco tira se riconosco mi dispiace addio intelligenza si 15 totale non ti sembra di riconoscere buongiorno buongiorno sono il middle ride pop un more ride drinking well e biannash il top piacere io sono Nike lui è video quanti volete unirvi a noi a mangiare dopo possiamo anche suonare insieme di nuovo abbiamo funzionato bene anche lui sa suonare davvero davvero va bene dai volentieri 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 però magari vi lasciamo in pace per la cena ah tu ma volete siamo tutti artisti qua so via siamo tutti artisti no ma tutti artisti no ma un pochino quindi vi arriva il cibo grazie signora non c'è di che ti dà il cibo ti dà il pesce mangiate e mi accoccoli un gatto ti accoccoli un gatto prendi un gatto e te l'accoccoli hai appena ricevuto uno sconto il gatto fa le fusa nelle tue braccia e dopo una decennia di minuti ti dà un attimo di una graffiata e scende perché sì perché sì perché a te piacciono i gatti vero nico perché a te piacciono i gatti però me l'hanno fatto uno stronzo traumi quindi cosa volete fare? iniziate a suonare? che sia vai suono si suona tutti insieme quanta gente c'è in locanda? al momento ci sono cinque persone che sembrano essere contadini e altre quattro che sembrano essere leggermente più sono nonostanti sì sono mercanti probabilmente ma che sono stanziati all'interno della città non sono inabiti da viaggio appunto buonasera io sono Milo Ryle Reed Poppy Ulmora I Rackfank In Wellam Big Garnash Il Top e stasera suonerò per voi con degli amici ok gli altri due bardi si presentano siamo quelli di prima esatto siamo quelli di prima siamo qua tutta la sere ma questi sono bravissimi sono stretti involti e dietro volevo iniziare iniziamo iniziamo dai cosa suoniamo forse che non si presenta cosa vuoi suonare iniziamo un due tre mi vengo dietro un due tre un due tre un due tre nella vecchia fattoria 18 si 18 quindi 20 23 23 ho fatto 14 ho fatto 14 quindi e tu fai anche i figli i figli tra le di voi iniziano a suonare decentemente bene molto bene e il tipo col taburello dopo un paio di colpi lo buca la pelle no ho fatto uno ho fatto uno buca la pelle sfondando il taburello ci resta malissimo no teni tranquillo fai suonare il violino posso provarci grazie prende il tuo violino inizia a suonarlo non è bravissimo nel farlo ma più o meno vista dietro quindi iniziate a suonare qualcosa di immagino felice essendoci anche tu suonare qualcosa di felice tutti insieme la gente sembra abbastanza apprezzare il povero con il violino ogni tanto stona ogni tanto non riesce a starvi tanto bene dietro ma non essendo il suo strumento ha qualche piccola difficoltà sono umani i figli sono umani il violino non è piccolo no non esistono i tagli 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 sotto il mio coltello è tipo una spada esatto ero rimasta al 3.5 no 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 non ci sono le taglie nella 5 quindi cosa vuole fare? suoniamo suonate suonate suoniamo arrivata fine serata è una moneta d'oro e tre d'argento sono state messe messe praticamente ai vostri piedi sono state date a voi una moneta d'oro e tre d'argento grazie e arriva la fine serata ormai la maggior parte del dei degli ospiti della locanda se sono andati la maggior parte dei gatti sta dormendo e la signora mi sta guardando è tipo beh allora prima di tutto prima di tutto lo sfoggio delle mie grandi abilità e con la suonata finale casto riparare riparo il tamburo wow ci sta ci sta quindi sviolinata finale a solo di corna musa a solo di corna musa incredibile il violinone riesce effettivamente a ripararsi il tamburo il tamburo il violino il tamburello si ripara dal foro che aveva e finite la sessione e il tipo appunto del tamburo ti ringrazia ti dice che per ringraziarti ti lascerà la sua parte troppo gentile come minimo grazie a te per quello che hai fatto e vi vi dividete i soldi sono una d'oro e tre d'argento quindi sono tredici d'argento diviso quattro sono stati stronzi d'arri quindi sono tre d'argento a testa e lui se ne prende sette perché se ne avete una d'argento in più ok io avrei fatto già la doccia non mi sembra che mi taglimo la doccia quindi ci sono delle stanze chiederò a nonnetta sì sì sono presenti delle stanze siamo detto scusa non andiamo a dormire di là ma li raggiungiamo domani ma li raggiungiamo domani ma li raggiungiamo domani aiungo 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 che ha fatto i campesi di uno altri ma ormai è tardi saranno conosci erano stanchi morti stanno già per me ma si preoccupano no si fidati con me non sono mai preoccupato non si preoccupano tranquillo tranquillo accoccolati su un gatto è stato un peccato che la nonnetta abbia insistito per farmi ubriaca se no mica stavo parlare con gli animali parlavo di tutti i gatti mamma mia non so comunque pensavo l'avresti fatto comunque per dormire è una moneta d'argento tenga tenga quello che vedete la stanza è messa abbastanza male ci sono dei buchi sul soffitto ma fortunatamente non so riparare per riparare dovreste avere tutti i pezzi e quindi non puoi non puoi usare a riparare in questa stanza non c'è materiale ci fosse del legno sei sicuro che non vuoi andare di là aspetta un attimo vado giù della signora mi scusi si salve non è che avrebbe un asse di legno è un asse di legno legno è una taverna questa si che è tutta in legno è una taverna non è una fallegnameria si l'ho capito ma ogni tanto qualcuno sistemerà la taverna si è tutta in legno se il palegname esatto non lascia pezzi no no si vede o sei qui è la combinazione di due che non funziona ci provo a parlare io buongiorno signora sempre buonasera buonanotte buonanotte quindi no aspetti buonasera salve 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 va benissimo salve volevo chiedere si ha dei pezzi di legno è di nuovo è una taverna questa si lo so aspetta ma ascolti a me eh ha un tavolo rotto no li butto i tavoli rotti sono rotti tu mi li butta li muo porta il palegname grazie a questo palegname eh ha quanto legno ti serve di quanto erano grandi go infiltrazioni poco ha un tagliere il tagliere il tagliere che non usa no che non lo si che lo uso il tagliere è una taverna questa ci cucino bisogna tagliarla la garmi si canna e che palle queste parole vilo è l'interiore guardo guardo la segna su cui l'ho seduto durante la sera in che condizioni è no ok 16 più non so che cosa copro sopra 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 sembra aver retto tranquillamente il tuo peso e non sembra essere troppo danneggiata mattina io non ho detto che vuole ok va bene ok senti andiamo in stanza chi se ne frega andate in stanza a dormire bene buonanotte grazie quindi voi altri due più yukio una sola cosa nel buio nel buio le scene si spengono le luci e rimane la scena al buio e si sente la vocina di muro comunque poi stag un po' ti odi perché ci sono i gatti ci sono i gatti non ti piacciono i gatti si mi piacciono i gatti non ti è piaciuto solo insieme in compagnia quando è stato divertito eh vedi ci ho detto che ti saresti divertito si mangia bene ti prego dimmi che non devi percentuale per vedere se piove no no ok ora no vai dopo quindi voi tre invece arrivate appunto a mangiare la droga e entrati notate appunto il mercante che che si avvicina e ti dice che effettivamente ha trovato la la signorina Ume effettivamente è una mercante di principalmente spezie ma niente di incredibile infatti non sa bene quanto vi potrà pagare però sta andando verso verso Agi e se siete disposti a farlo da guardia qualcosina insomma sicuramente vi darà ok sì quando hai intenzione di partire? da quello che sa nel giro di un giorno quindi non domani ma insomma domani ancora il il mercato da fare ok ok bene 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 quindi per il resto cosa volete fare? mangiare e non lo dire ok Yukio ti continua a chiedere di dai dai che vedo di imparare il mio nome ok ok voi insegno ha fatto molto ha sbagliato a scrivere con l'ideogramma sfortunatamente non riesce effettivamente ancora a scrivere bene il suo nome però dai stai migliorando però pian piano dai facciamo domani prendiamo domani quindi andate tutti a dormire una giornata lunghissima è stata oggi però una cosa e l'altra e vi svegliate il giorno dopo vediamo se ha piovuto non li hai tirati in quel momento ma li hai tirati per la notte adesso è stata mezzata il tempo è giornata fortunatamente non piove però buona dormite male no no fortunatamente non piove anche voi no noi siamo scoperto ma noi siamo scoperto ma tuona se tuona sicuramente ma voi avete la strinza quindi aggiusto vediamo quanto è russo no 19 di dado di costituzione Milo non riesce a dormire benissimo e avrei bisogno se vuoi effettivamente riposarti come pausa lunga devi dormire 10 ore invece che ho 8 vabbè dormirò 10 ore perfetto perché dormi male perché viene svegliato quasi costantemente dal russare di bolstag e nel momento in cui lui si alza per andare a fare colazione immagino continui a dormire finalmente in silenzio voi altri invece vi svegliate in tranquillità vi alzate fate colazione se volete e cosa dovrete fare nell'arco di questa giornata allora io intanto io sui cantesimi poi la mattina mi metterei a fare la cosa del trovo famiglia mi serve un'ora e voto il famiglio ok io passo colazione sistemi di cantesimi e prendo gli occhio lo addestra un pochettino a cavalcare e provo a dargli anche un po' di addestramento a colpire perfetto quindi formarlo un pochettino anche con l'ascia e verso metà mattinata no metà mattinata prima l'ora di pranzo andiamo a cercare come la mercante di spezzi perfetto se non una cosa per il famiglio nel costo dei materiali sono messi dei costo di moneta d'oro o no carboni incenso ed erbe del valore di 10 moneta d'oro allora devi spendere 10 moneta d'oro ok perché il focus funziona solo se non c'è scritto il costo ok dovrebbe essere così mi pare di sì controlla in caso ste in caso controlla ma dovrebbe essere così quindi focus arcana non proprio eh sì focus arcana cioè il focus della magia quindi eh lucia cosa vuoi evocare come famiglio e come si chiama allora un falco celestiale mh fico si posso e come si chiama bu come lo chiami se vuoi i nomi sono qua sì dammi nomi prendi i nomi maschio o femmina eh maschio o femmina è casuale immagino un po' un po' un po' che è femmina direi che è casuale quello ok sopra o sotto i 50 cosa lo vuoi e sopra o sotto i 50 lo vuoi maschio o femmina maschio maschio hai un bel falco maschio ti inizia a preparare appunto l'incantesimo dovrebbe essere tra l'altro anche una un rituale un rituale dovrebbe essere controlla perché se è un rituale non serve che te lo rubai inizia appunto preparare quindi no c'è l'evocazione di primo livello rituale rituale ok allora puoi metterci un po' in più ah un folletto 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 posso evocare anche che si tratti un celestiale folletto o immondo ah ok falco folletto no folletto nel senso del feyland del è un reame ok e quindi comunque qua dice che posso evocare uno spiritello in questo senso no nel senso che viene da quel mondo ok e che cosa cambia a livello di poco cioè tecnicamente allora tecnicamente sono tutte cose che come appunto celestiale e coso cambiano l'allineamento in teoria dovrebbe essere tipo caotico non orale forse se tu hai letto folletto una cosa del genere dicevi? no per lanciare alcuni incantesi mi sono richiesti degli oggetti specifici e diretti tra parentesi alla voce dei componenti ok un personaggio può usare una borsa componenti o un focus incantatore si ma al posto delle componenti specificate che lo incantate se per una componente hai indicato un costo il personaggio deve essere in possesso di quella specifica componente prima di poter lanciare un incantesimo ok vabbè semplicemente vai al mercato vabbè al mercato compro roba esatto tanto non è niente di incredibilmente complicato quindi ti prepari a castare l'incantesimo e effettivamente dopo un'ora di meditazione compare davanti a te un falco dal piumaggio candido e dorato che hai la possibilità appunto di parlarci perché praticamente è nel momento in cui arriva ti saluta il colore ti ricorda vagamente boxt il colore ti ricorda è candido lui ti saluta e ti dice il suo nome che è Kiro Kiro perfetto il falco Kiro ti saluta e ti dice che appunto è qua per servirti ciao tra l'altro io se faccio di nuovo il rituale posso anche cambiargli forma senza prima che muoia sì senza uccidere sì quindi adesso hai un falco e ti si appoggia sulla spalla sì e ti segue tra l'altro sai già cosa puoi fare con il famiglio sì che se casto incantesimi da contatto li posso farlo tramite lui esatto posso congiudarlo temporaneamente ed evocarlo entro 9 metri e fargli questa cosa ho letto ok perfetto basta che sei a posto e tranquillo quindi tu e yukio andate ad allenarvi in tranquillità voi due la mattina cosa volete fare dormi lui dorme corazione che paghi il solito una moneta d'argento si 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 inizia a scrivere il tuo poema epico eh si e basta poi dopo io vado a vedere se con la giornata se c'è qualche non so se l'avevo già chiesto c'è qualche mercante o un medico o un medico o un borista che mi può insegnare a estrarre il veleno dagli animali o cose del genere mi sa che me l'avevi già chiesto mi sa che me l'avevi già chiesto e ti avevo anche già detto che in questa città no no vedo tre mercanti generanti qualcosa ok fammi un tiro percentuale non percentuale investigation per cercare informazioni a riguardo 9 più 3 11 12 da quello che chiede in giro non sembra esserci nessuno in grado di fare questa cosa quindi arriva il pomeriggio e tu e Yukio andate dalla signorina Ume se arriva il pomeriggio alle 10 mi sveglio si e li raggiungo saluto la vecchina perfetto saluto tutti i gatti quindi più o meno quello che qualcuno dice se mi sono i gatti e vorrebbero sul mercato esattamente quindi arrivi all'interno del mercato noti appunto chiedendo un po' in giro ti viene indicata la Ume che al momento è all'interno della piazza centrale della città e sta appunto con il suo piccolo carretto all'interno le sue merci sta cercando di vendere un po' di spezie e erbe nella piazza mi vengono vicino verso di lei si ti posso dirgli a me si lei io sono Onara e ci manda ci manda Ryota e il suo amico perché dicendo tutto che lei nei prossimi giorni dovrebbe partire verso lei ah come no certo certo e noi siamo io Yukio e ci sono altri tre compagni perfetto sono quelli che si sono votati di farle ad ascoltare perfetto perfetto allora vi dico subito al momento è andato abbastanza bene il mercato quindi non ho tantissima merce quindi anche il viaggio diciamo che non è così pericoloso per me è la mia merce quindi direi che ci potremmo accordare intorno a 5 monete d'argento al giorno di viaggio sì perfetto bene allora quando avete intenzione di partire? direi che oggi fareò l'ultima l'ultima giornata anche perché poi vorrei essere per la fine del settimo giorno l'inizio del secondo mese di Aki a Aji quindi direi domani mattina perfetto allora ci vediamo domani mattina fuori dall'uscita nord perfetto hanno raduni ti saluta gli altri beh cercare gli altri in un modo o nell'altro vi raggruppate tutti insieme vorrete fare qualcosa in particolare? voglio cercare nel mercato sì se c'è gente che non per forza del mercato anche se c'è un mezzo o qualcosa per le borsa medicinaria la borsa medica come il cazzo si chiama investigazione investigazione tredici tutti questi dati sono di metallo mi sa tutti i microfoni ne risentono no vabbè sono solo pesanti tredici ok allora chiudendo un po' in giro ti dicono di andare al tempio della madre che potevo pensarci già però non è difficile e quindi appunto ti dicono di andare al tempio se va in giro e chiedi ti dicono che hanno effettivamente a disposizione un po' di di erbe curative che possono essere appunto trasportate come come borsa del guaritore e le vendono per raccumulare un po' di soldi per il per il tempio mi vedete arrivare questo falchetto falco a un falco è un falco celestiale posso comunicarci non vorrei farvi sarà utile ma potrebbe esserci molto più utile del campo farlo volare parlare con lui e sapere cosa bello per quello che ha scelto un falco io ho parlando con il mercante abbiamo un lavoro partiamo domani mattina e la persona del guaritore sono 5 monete d'oro come? 5 monete d'oro la borsa del guaritore bene 5 monete d'oro ti costa i chierici di una divinità buona non cercano di fregarti no il corpo e il falco hanno la stessa intelligenza vedi? no è stupido no attenta perché l'intelligenza viene modificata mi sa da cosa? dall'incantesimo vabbè poi controlliamo bene dopo controlliamo con calma qui quindi Milo vuoi fare qualcosa per il falco se lei arriva col falco io arrivo con la borsa perfetto oh mio dio hai preso un falco mia famiglia ci parla oh mio dio hai invocato il falco si chiama Iro saluta Iro ciao Iro immagino facendo qualche cenno con le ali o cose si tipo di appetito perché penso che per un alfin per un falco c'è tipo uno snack c'è la scritta abbandi posso accarizzarlo? si immagino di si non devo faccio chiedo se gli da fastidio no no non si da fastidio nel ventre comunico telepaticamente però se gli parlo mi capisce se gli parlo a voce o solo telepaticamente? non lo so se gli parli a voce non sono sicuro telepaticamente è sicuro gli dico che anche se è affamato non deve mai mangiare la cipolla che è accanto a Milo ok magari Milo si ma la cipolla no no ma perché non è buona? no perché è l'animale è tipo il famiglio di Milo quindi il palestra in grave torto non mangiarla ma quella cipolla quella cipolla si vedi che si muove quella cipolla come? quindi che stai cercando? non so comprendeva vediamo dopo vediamo dopo andiamo avanti vabbè se usi il parlare con gli animali ti capisce si ho carezzo ho carezzi ciao ciao aspetta ti do un pezzetto di carne lo mangia lo becco lo mangia è felice quindi ciao nel pomeriggio cosa volete fare? ti do un pezzetto di carne avete qualcosa da fare di specifico nel pomeriggio? nel pomeriggio? yukio ti chiede domani mattina partiamo domani mattina partiamoci si poi andrò a cercare razioni non mi ricordo quante ne ho dove l'ho segnata e quante ne ho ma faccio le carrazioni ok quanto ne ho io ok allora è vero non ne avevo consumate perché sempre cuciniamo tutto si si poi arriviamo ad Aji ci fermiamo un paio di giorni cerchiamo informazioni sul labirinto e poi andiamo a cercare il labirinto ok 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 si perfetto quindi nel pomeriggio yukio ti chiede di continuare ad allenare insomma perfetto giusto per non perdere però non ti pensavo ci alleniamo anche nella scrittura va bene va bene volentieri posso allenarmi anch'io sono cresciuto così in fretta vieni piccolo mino si ma mettimi giù però scusa ma fai da fantoccio per yukio via io ho un coltello è una spalla corta ok vediamolo di fuori qualcosa ok io faccio una cosa cerco al mercato o intorno alla città a seconda di quello dei costi e di tutto povera erbe lì intorno alla città erbe voi fate quello che fate e Bolstag va dal capo della guardia cammina verso l'edificio del capo della guardia mentre voi siete occupati a fare altro esatto tutti hanno dimenticato del compenso ma Bolstag ma Bolstag in realtà sei andato solo tu a chiedere il compenso o eravamo tutti eravamo tutti non lo so beh penso che si eravamo tutti è vero eravamo tutti la guardia quindi arriva arrivi appunto davanti al capo e al signore Isao e ti ringrazia di nuovo e ti consegna così a mano ok neanche come usare a mano no vabbè non uno in un sacchetto non ho detto ok google ho detto sacchetto uno molto grazie grazie ok e ti consegna un sacchetto con all'interno un totale di 25 monete d'oro ha detto che sfortunatamente erano finiti tutti per le acque tra sì diciamo che tra appunto tutta la città non se la non se la sta passando benissimo però sono riusciti a cimolare questo gli sembrava giusto dare questo come ricompensa ok consegna è una volta per farci dei calcoli ora fai dei calcoli fai dei calcoli quindi io trovo erbe con qualcosa sì trovi erbe tranquillamente da comprare e che erbe vorresti comprare esattamente qualcosa di erbe medicinali qualcosa di erbe velenose se trovo cioè erbe da cui magari quest'altro dedicato una bella donna ok allora cose velenose non ti sembra di vederne la maggior parte sono spezie per cibo e qualcosina di medicinale lo trovi principalmente grazie ai chierici che vendono però se provi a chiedere appunto per qualcosa di velenoso ti dicono che nel bosco un po' più a nord nord-ovest dovresti trovare un po' l'idea era fare un giro al mercato vedere i prezzi che mi dicevano e mi permette andare l'intorno cercare quello che trovavo che vendevo no vabbè più o meno erbe eccetera non lavorate quindi roba fresca ti costa una moneta di rame due monete di rame se è qualcosa di un po' più particolare ma appunto quello è il costo per un mazzetto di erbe varie si boh prendo due tre ho quattro monete copper no? ho quattro monete di rame le spendo tutte in erbe la scorta di erbe ti prendi un po' di erbe fresche medicinali usi vari ed eventuali scoria trovi anche un po' di cicoria sii sono la persona più felice del mondo e allora aspetta di bere il caffè di cicoria poi ne parliamo sulla felicità mi interessa solo di rimanere svegli a studiare di più io a destra un po' un po' comino perfetto quando è il tramonto devo fuori la pietra ok e mi rimetto in contatto con easy ok cosa gli chiedi? ma chiedi questa volta chiedi dei genitori di yume allora trovata carovana ok yume chiede se hai trovato i suoi genitori ok siamo dieci no no perché hai trovata carovana non hai segnato tre ma è la tua va bene va bene ok fate grazie voi intanto siamo dieci quindi mi rimassano ancora quindici parole Milo chiede come sta la sua famiglia e in generale il paese ok ti rispondo in paese il paese e Milo tutto ok ok i genitori stanno tornando da rifu stanno tornando da rifu dice da quello che so tutto che si sentiamo domanda buon lavoro allora Milo Eiji dice che il paese è tutto a posto ok la tua famiglia sta bene ok Eiji dice che gli uomini stanno tornando a casa mi dici che stanno tornando a casa? tu non sei con noi ah è vero ma io sono in giro lega a comprare erbe si poi dopo torno lì da voi per le bolsa io non so dov'è quindi torno dove so che siete voi ok quando arrivi io mi ho parlato con Iiji perché? no ho detto le miei si si ho detto che i tuoi genitori stanno tornando da rifu vedete voi ah rifu rifu colpo finale cosa so di rifu cos'è? tira e conoscenze di? locali eeeh cos'è? locali eeeh storia? no geografia che non c'è che non c'è eeeh c'è storia insight invasion investigation nature perception performance persuasion religion self-defense stealth survival fammi un tiro di intelligenza eeeh quindi dodici più tre quindici 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 sai davvero poco principalmente qualche qualche parola mezza detta sai essere una una cittadina a nord di miloria sulla costa dall'altra parte della foresta e tra i monti tra i monti che si vedono quindi in zona dove la mia casa no 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 sempre nella stessa zona cioè nella vostra zona ok fai che voi adesso siete a oro vedete a ovest dei monti sai che in quella zona la c'è rifu è una piccola cittadina non controllata praticamente da nessuno non sai altro ma stanno tornando? stanno tornando da rifu così mi ha detto Aiji ma stanno tornando in villaggio? si stanno tornando da rifu non è tornato indietro forse sarà finita la minaccia se ne stanno tornando da rifu spendo la moneta d'oro che avanza così come scorte cibi base due razioni quindi si ma ha detto che stanno tornando non so se dipende dalla razione cosa si intende si non farebbe come dire la razione del cibo che puoi trasportare tranquillamente in acquidi tipo anche due settimane e ti saccia per un giorno? si che ne ha poi perché pensavo di prendere materie prime per fare i vari piatti ah ok quindi tipo carne e ingrezza eccetera si ok va bene carne e verdure eccetera però costo di una maretà d'oro consegno così davanti a me le ore sono della sera adesso che io torno c'è il pomeriggio si si ci ho parlato con Aiji e dopo tramonto ok e ora ragazzi che vogliamo fare in teoria ci possiamo tornare la locanda Volsack 2 no è tornato in tutto questo poi torno esatto con il sacco di il cibo ok allora recuperate i soldi dal comandante qua tieni 5 monete tieni 5 monete tieni 5 monete tieni 5 monete avanzavo una moneta d'oro che non si riusciva a dividere bene ho preso scorta tieni 5 monete 5 monete 5 monete decisivo ci sarebbe anche Yucchio ciao Yucchio ciao comunque tu sei stronzo le sei intascate 10 9 ok ma tu non lo sai ciao ci sarei anch'io io devo con una sarebbe in un momento dopo di Yucchio grazie di Yucchio 2 è madonna guarda c'è più di voi no ne prende solo una grazie mille basta che le mie le do anch'io quindi 4 monete d'oro continua così Alberto ti ucciderà nel sonno Yucchio prima o poi ohhhh 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 bene quindi io bevo un po' di hue cola aah dopo questo cosa volete fare quindi scusate sono un po' dobbiamo portire da una mattina io quindi potrebbe andare a dormire ok e poi portiamo l'altra. Andiamo al locanda. Quell'altra! Quale? Quella locanda quindi? La vecchina è simpatica, ci sono tanti gatti bellini, però insomma è un po' una ridotta. Però no dai. Io non mi ricordo, la città col porto era l'altra, vero? Quindi quella con le offerte del mio normale. Agi? Sì, era l'altra. Voi siete un foro. Quindi andate in locanda, mangiate e dormite direi. Io ripasso e ripeto loro per l'ultima volta quale sarà il programma. Ok. Quindi ricordateli, arriviamo a Agi, si estremeremo un paio di giorni, dobbiamo raccogliere informazioni sull'avvento di ergo. Certo. Ok? Ah sì, la paga che ho fatturito con il mercante è di 5 note d'argento. Al giorno? Quindi sono due regioni di viaggio o tre? Due giorni. Mi fanno una moneta d'oro. Mi fanno due monete d'argento a testa? Eh sì. Ah sì, ok. Eh sì. Quindi andate a dormire, andate a riposare, il giorno dopo vi svegliate... Dai, non piove, per favore. Dillumpia! Invece piove! No, aspetta. Sì, piove. Piove! Piogellina leggera. Sì, spero del tempo non l'avrei fatto, ma siccome hai detto che piove, mini break. Mini break, visto che piove. Dai. Te lo meriti. Va bene, sono le 5 e mezza, facciamo un mini break e poi faremo una tirata. ci stai bombardando di acqua. Non è colpa mia! È la stagione piovosa. Piovosa, innu. È la stagione piovosa. Effettivamente Borsa che in questa sessione non si era ancora lavato. Mamma mia. Mamma mia. Grazie, l'animalista. Grazie. Un certo incontro di grasso, sudore e sangue di demone ombra. Esatto. Allora, vediamo se c'è qualcuno da ringraziare. Sì! Plato 94 per tre mesi. Cosa? Bravo Plato! Che adoro Vin, ha fatto un ragionamento bellissimo. Ci si poteva chiamare, il Falco si poteva chiamare anche Hojano, perché Hojano significa famiglio. Oh no! Ma io posso cambiargli il nome, ti prego! No, 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 non puoi! No! Non puoi! Stupido Sexy Ballstug! No, 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 no! No, dai! Non si può, non si può! Stiamo scherzando! Vina, pregio tantissimo! Purtroppo non posso! Beh, puoi farci un brodetto di Falco e poi utilizzi altri dieci monete d'oro, nevochi un altro e gli dai il nome che vuoi. Fai un brodetto di Falco. No, non puoi ucciderlo! E la volta dopo nevochi un altro e costo dieci monete d'oro e il bel nome che vuoi. Bruno come nome del famiglio. Ma povero Bruno, perché? Ma era un Falco albino! Cioè, tipo un Falco bianco che si chiama Bruno. Cosa? Perché? Yeeeeh, grazie rarissime! Cosa? Cosa rarissime? Cosa è rarissime? Cos'è accaduto? Qualcosa, secondo me ho fatto due. Non so. Sette! Sette? Dai, non è male. Falco al Bruno, no! Falco al Bruno, no! Mamma mia! Ti prego, no! Aiaiaia! Vediamo qui che io mi sto organizzando tutte cose. Dai, oggi sessione tranquilla. Sì, oggi è tranquilloso. Sono felice. Comunque, se l'unico nome che vuoi dare al famiglio che stiamo facendo, devi chiamarlo Gianni Falco. Basta con sti nomi incredibili! No! Basta! Beh? Questo fa dieci, ad esempio, se vado qua. Ah sì? Fa dieci? Sì. Prima di tutto questo, come l'altro? Dai, oggi sessioncina tranquilla, non rischiamo di ai morire. Hai detto. Ha detto. Ha detto. Ve l'ho detto. Stavo aspettando una ragione di qualcuno. Ehm... Io vorrei sgranocchiare qualcosa. Non so niente da sgranocchiare. Volete delle... So cosa! Volete delle treccine? Delle treccine? Guarda, qualunque cosa sia, una treccina te la rubo. Nooo. Ah no, non mi piacciono. Dai, io di cacoluccia. Non mi piacciono. Treccina. Treccina tantissimo! Sì. No. Al volo. Al volo. Al volo. Quanto corto questo lancio. È stata abbastanza corta. Non so perché. Allora. Questa cosa mi... Mi... Mi arrabbio con te. Vuoi la traccina? No. No. Niente. Ha detto, li chiedo. Tra l'altro io non l'ho mai detto, ma se è per la ragione che penso, ha preso moltissimo il nome di cacolucchiam. Perché? Se proviene da Prince of Persia, io lo ammiro tantissimo. Buonasera. Salve. Ciao nonna. Scusate. Scusate. Salve. Salve. Eh, è mamma. Mamma, è giù là. È giù là. È giù là. Maledetti. Allora. 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 Ah, è giù là. Allora. Poi. Allora. a me non c'è nessuno. Provo a castare e parlare con le mani. Spine, tira. Lo vedremo. 30 più 60. Ce la fai finalmente. Hai nonna. Hai nonna, ho visto. Quindi ti casti il castare sugli animali, parlare sugli animali, poi gli animali. Noti che non sono successe cose strane. E Shiga ti guarda. Bravo che non hai mangiato i gatti. Gatti? Mai mangiare gatti. Gatti? Non si mangiano, non sono buoni, troppo bene. Carne? Carne sì, quella sì che si mangia, ma non dei gatti. O meglio, se il gatto è morto ed è scuogliato. Se il gatto è senza il pelo... Che brutta cosa devo dire. potresti. Massetidolo ok. Fagli trovare uno Sphinx. Infatti... Ho detto massetidolo ok. Gatti? Scusi, non è tanto intelligente un cane. Vediamo quante... Io te lo dico. Solo per canzoni dell'intelligenza. Ok. Gli faccio il disegno per terra un gatto, gli metto... Nooo... Carne! Gli faccio il disegno della carne, gli metto un pezzetto di carne e ve la mostro così. Questa si... Ti guarda, tipo... Gli mozza il gatto. C'è qualche razione. Guarda il disegno. Disegno. Beh, ha capito che è un disegno. Si, disegno. Se fosse vero, cosa faresti? Un disegno. Sì, si è. Si ristende. C'è molto da lavorare. Bravo! Coccole, coccole. Coccole. E lo gratto. Ok. Ma no gatti! No. No. No gatti. Ok. Coccole. Coccole, sì. Gatti no. Coccole. Secondo me... Parlare con gli animali non è facile. Lo so. Io l'ho detto lì, ma secondo me fa prima Yukio imparare a scrivere il suo nome che è tuo a far capire al cane che non deve far capire il cane. Anche lei non c'era a parlare con gli animali rispetto al vostro. Ah sì. Parliamo. Poi spostare? No, tranquillo. Spostati. Spostati. Non si sposta. Controllo le mie magie! Dopo sei fallimenti. Il fatto che lo dica nel momento in cui sei in blu rende poco credibile la cosa, lo sai? Oh, stai in zitto al ragoro e torna quando sarai un protagonista. Esatto. Come? Chiedono il fatto, comunica con il cane. No, è telepatico solo con te. Ah, ok. È telepatico solamente con te. In famiglia. Per gli altri è un animale, in teoria. Ok. Quindi. Perfetto. Vogliamo ricominciare? Ricominciamo. Partiamo. Vi svegliate il giorno dopo. Beh dai, partiamo adesso. Vi raggruppate con la signorina Ume. E cominciate a viaggiare verso Nord. Intanto io farò una cosa nel mentre del viaggio. E parlerò con la signorina, chiedendogli il prezzo medio delle spezie. Cioè, chiede e va là informandomi e facendomi dire più o meno il prezzo. Ok. Non intendo mai di saperlo, non so se ce l'hai pronto. Però farlo... Ok. No, vabbè. Ti dice, dipende dal tipo di spezia e dipende da quanto distante arriva. Mhm. Lei in verità... In verità lo vede solo spezie tipo per cucina o anche cose cucinali? Principalmente per cucina. Ok. Lei in battenti dice che la maggior parte del suo lavoro è spostamento di sale. anche se attualmente ha erbe. Ma, appunto, la maggior parte del suo lavoro ha a che fare con il sale. Ehm... Ti dice, appunto, che la maggior parte del costo lo fa la distanza e la rarità dell'erba. Ma, naturalmente, se fai il rosmarino, ti costa un po' di meno. Ehm... Se hai qualche erba davvero particolare, può effettivamente costare molto. Ci sono molte persone, soprattutto a nord, tra i tokugawa, tra i clan più importanti, che sono disposti a pagare anche molto, davvero molto, per qualche spezia particolare. Poi... bisogna un po' vedere. Il mercato è del mercato. Ci chiacchiero e poi io mi chiedo di potermi... Lei ha un carro? Chiedo di potermi sedere sul carro, se la spazzino. Mh... E avverto loro che manderò il palchetto in una scoperta. Piove? Eh, sì, sì. Ok, gli dicendo di non mandare troppo un palo da me. Ma avverto voi che io sarò cieca e sorda in questi momenti. E quindi... O mi svegliate in qualche modo, o, insomma, se succede qualcosa, perché io non sento niente. Tranquillo, ci penso io. Perfetto. Quindi, ricominciate il vostro viaggio... Andate... E' molto figa. Quindi, iniziate il vostro viaggio, andate verso nord... E la giornata, anche se con pioggia, passa tranquillamente. Non sembra esserci praticamente nessuno per la strada al momento. Ehm... Non sembrano esserci pericoli. E andate in tranquillità. Più o meno a metà giornata incontrate qualche altro mercante che va verso oro. Oro. Ehm... Principalmente la maggior parte di loro ha i carretti vuoti. Ok. E, appunto, camminano verso l'oro. Vi salutano. Non si fermano neanche, insomma. Vi danno la buona giornata... Buona... Buon giorno. Vi danno il buon viaggio. E continuate a camminare fino a sera. Al tramonto, al solito, prendi in mano la pietra. Al tramonto, prendi in mano la pietra. E allora, parlo con Eiji, dico... Eiji, siamo a Netastrada. O per i risventoli di Yume, in che senso tornano per il fu? Ti dice... Ehm... Li ho contattati... E ho detto a loro che la situazione si era calmata. Hanno deciso di continuare. Ok. Quindi, quando puoi finire... Se lei è ancora in condizioni normali, quindi non hai cerca a soldare... Allora, ho parlato con Eiji. Ha detto che stanno tornando da lì fu. Perché lui li ha contattati e ha detto che la situazione si era calmata. Stanno tornando a casa. Ehm... Perché tanto vuole che continuassero? Ok. Se la porto Eiji... Diciamo che mi fido. Ok. Sono perplessa da questa cosa che è ok. Qualche motivo ce l'avrà avuto. Quindi! Quindi poi... Poi... Nanne e turni. Nanne e turni. Nanne e turni. Nanne e turni. Che turni? Io e Yukio faccio un po' di nuovo. Perfetto. Ah, tra parentesi per la cena. Non so se lui ha roba, si ha cucinato, eccetera. Se avete il casino di cibo che ha portato Bolstag. Che... Cioè... E' cibo grezzo. E' fresco. E' fresco. E' da cucinare. Eccomi! O sennò mandavo il falco a cercare... Con i... 18! 18! Ehh! Che buono! Mamma mia! Riesci a cucinare un po' di carne sulla brace. Tra l'altro, praticamente decidi di ricoprirla con le ceneri calde per cucinarla bene all'interno e tenere bene i succhi. E effettivamente riesce a tirare fuori un buon pasto per tutti voi. Aha! Aha! Visto? Visto? Ma che buono! Guarda! A lui piace un sacco da un pozzettino di carne. Lo mangio. Andiamo, 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 andiamo. Vedi che c'è? Ciao io! Ciccaino! Pat, pat, pat. Quindi... Arriva la sera. Intento che poi... Come è che si chiama? Ho cucinato anche per... C'è un coso? Per i ucchi. Per i ucchi. Per i ucchi. E per i cani. Perfetto. Arriva la sera. Poi Bobbin si ingelosisce. No, Bobbin... E poi Bobbin non mangia carne. E poi Bobbin non mangia carne. Non fatti. Quindi... Non ha pianto. Pat, pat. C'era una cipolla di quanto creepy. Quella che mangia carne, onestamente. Ok. Quindi... Vi mettete giù. Preparate, insomma, il campo. Con il fuoco centrale, eccetera. E iniziate la vostra ronda. Chi inizia per primo, quindi? Io e Yukio. Tu e Yukio. Poi? Voi faccio io e torno all'intermezzo. Insieme a me, a questo punto, è borsa che può stare da solo. È grande, valoroso e possente. Se puoi canna, cazzi vostri. Vabbè, c'è anche comunque... Beh, è anche vero che sei... Diciamo una cosa. Fai tu quello da sola che tanto hai il fallo. Vabbè, anche lui ha il cane. Sì, ma lui è borsa. Sì, ma... Sì, ma il problema è che io dico sì, però è anche vero che un uomo nano di 400 kg, se fa casino si sente. Sì. Sì. Vabbè, faccio io il turno da solo? Non ho messo. Ma no, ma lo facciamo insieme. Primo, io e Yukio. Secondo, il nido e yuma. E il terzo. E il cane. 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 Il cane. Il cane. Il cane. Io ti direi di sì. Ok. Ti direi di sì, ti direi che comunque ha bisogno di dormire. Ok. Perché, tecnicamente, dovrebbe comunque essere considerata una bestia. Un animale. Sì. Quindi. Andate tutte a riposare. Tranne Yukio e il signor Onaragoro. Vediamo quanto russi. Vediamo quanto russi. 19 russi. Ah puttana. Quanto russi. Tu fai sempre i tiri alti quando non serve, comunque. Boar Stag. Boar Stag russa come se non ci fosse un domani. Dormai da Dio Boar Stag. Eh. Tu e Yukio. Mi fate. Io faccio per Yukio. Tu fai per te stesso. Un tiro per sezione. Ma è la forza. Eh? Non sono le mie cose di su. Ma vai. E sei comunque un venti naturale. Mamma mia. In comprensione di un per sé ce l'ho fatto bene. Perfetto. Il disturbo con un venti naturale riesce a sentire, eh, distante da voi, eh, stiamo parlando di più di cento, più eh, abbastanza distante, ok? dal campo, dei rumori, cose che si muovono, forse delle voci, ma non sembrano venire verso di voi, sembrano essere abbastanza lontani, e Yukio non sembra di sentirmi. Io metto Yukio sulla pendi, da quella direzione là ho sentito più o meno delle voci e dei rumori, quindi prestiamoci un attimo d'occhio, fra un po' riproviamo a cercare di capire se stanno venendo di noi, se vengono verso di noi vai a sbagliarmi. Tra l'altro il falco quanto deve dormire? Direi come te, così non abbiamo problemi. Sì ok, perché se no gli lasciamo il falco, però in realtà... No, a parte che per lui è un falco, e basta. Ah, è vero. Non è che parlo, è che parlo. Esatto. Quindi, io ci farei passare più o meno un'oretta, in cui sono molto più diattivo, e poi li proverei. Ok, perfetto. Quindi, passa in verità una mezz'oretta, Senti, chiaramente rumori di battaglia. Ok. Yukio, non senti nulla. Sarà forse colpa dell'ursale di Bostag? Si raffinca anche leggermente dell'ursale di Bostag. O della sua incompetenza, chi può dirlo. Chi può dirlo. Forse la sua incompetenza è data dal tuo russale ogni cazzo di notte. E tu senti, nel retro della tua mente, una voce che ti dice, aiutami. Che bello. Yukio? Svegli agli altri. Ok. Io ho una cosa a fare. Ok. Salto in sella. Ah! Vai! Stronzo! Ok. Tanto, tanto, tanto. Ok. Quindi, salti in sella, vai verso la direzione dei rumori? Si. Quando sono abbastanza vicino, smonto, lego il cavallo, lego stronzo ad un albero, e vado quattro, quattro, quattro. Ok. Quattro, 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 quattissimo. Tirami in set. Allora, hai vantaggio il collettorale. Mamma mia, che bello fare così le cose. Che bello fare così le cose. Spostatemi cose. Quello che noti? Io ho paura di quella cosa grossa che prima ha preso. Eh? Ho paura ancora di quella cosa grossa che hai preso prima. No, no. Quello non verrà usato oggi, mi sa. No. Sfortunatamente. Allora, facciamo così. Alberi, 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 alberi. Alberi, 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 alberi. Non so, si stai male tu. Quello che noti? C'è una piccola radura. No, non serve da dire. In verità serve solo una cosa. Quello che noti è, in centro alla radura, una creatura... Un fa punte. Un fa punte, esatto. Una creatura fa punte che è legata, ok? E ha varie reti addosso, ok? Sembra continuare a muoversi. Da quello che noti, tra il buio e la poca luce della singola luna, noti che è una creatura serpentina. Ha dei colori sgargianti, con riflessi arcobaleno. Due ali molto grandi, piumate. e sembra, appunto, muoversi. Intorno alla creatura ci sono... Oddio! Nooo! Un aragolo! Goblin! Allora servivo! Tre goblin e uno a terra, anzi più di uno. Due, tre, là, morti, se vuoi dire. Metti dei dati. No, no, ma ok. Ma sì che ce li ho. Metti altri tre goblin morti a terra. La creatura sta continuando a muoversi, ok? Sembra incredibilmente sfinita. E tu arrivi da questa parte qua, da queste direzioni qua. Albee, l'ultimo albero là in fondo, tu al giro. Così si vede anche dalla telecamera. La di base è praticamente così. Nel momento in cui riconosco i goblin, sulla mia faccia compare un sorriso a 365 minuti. Sì, lo so. Lo so. Ora vedo di farti vedere la creatura se vuoi. Devo solo trovarla. Allora, di base l'aiuterei comunque, perché sei a punto dei goblin, quindi di base l'aiuterei. Però sai, tipo, comunque un minimo di buon senso da... Che cazzo sei? Certo, cioè, se pare se magari ne so qualcosa, se è buona, come si comporta anche con i viandanti. Guarda. Se posso applicarci una taglia. No, no, no. Prima o poi la taglia comprerà sul Bolstad. Questa è la creatura. Ma pulcissimo. È proprio pulcissimo. Quindi... Noi ci siamo svegliati intanto. È... Luca vi ho parlato, sì. Quindi, fammi un tiro conoscenze natura. 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 Intanto sono ancora in teleselvagia con un vantaggio. Mamma mia, vai. Un altro venti naturale. Gittano poi adesso quando li attacco uno, tre, quattro... Esatto. Allora... Ci potrai dare informazioni. Mancate un materiale. Quello che sai è un coatido. Oh... Sai essere creature buone, normalmente. Normalmente sono guardiani e hanno il compito di proteggere un luogo, nella maggior parte dei casi. Se non hanno un luogo da proteggere, o stanno andando a figliare da qualche altra parte, o comunque nel momento in cui la loro... La protezione del luogo o quello che devono fare finisce, se ne vanno in pace tranquillamente. Sono creature comunque buone, che durano centinaia e centinaia d'anni. Sono normalmente abbastanza forti. Da quello che vedi, questo qua è completamente spremato. Ok. È legato? Sì. È legato da varie reti. Varie reti. È completamente bloccato al suolo. No, non ho contagio neanche sui tipi per colpire, ma non ho niente. Vai! Tira per colpire. Sì, crede. Tutto stealth. 21. Colpito. Vabbè, sei qua quindi dai. 8 danni. Esplode. Lancia una freccia, il goblin cade di faccia, gli altri due cercano di girarsi, cioè si girano guardando l'aria. Iniziativa. Vuoi un 9? 12. 12? Ok. Quindi, uno dei due resta completamente scioccato dall'amico con una freccia che gli passa attraverso, che cade a terra e resta fermo senza capire cosa fare. Quello più in fondo ti vede e cerca di correre via. Di correre via? Mamma mia se correre via. Via! Correre via. Sono 4, quindi 8 quadretti. 8 quadretti? Sì. Tocca a te. Miro l'altro. Vai. Ostia! 18 di lato. Colpito. 5 danni. 5 danni? Ok. Viene colpito alla spalla e vedi che praticamente col colpo lascia cadere l'arma che ha e cerca di correre dietro gli alberi, cercando copertura. L'altro corre ancora più lontano. URLANDO! Non ne posso lasciare vivo neanche uno! Tocca a te. Voi ti ho spostato un po' in avanti. Dove cazzo vanno? 15. Capito? Ci sono altri 6 danni. Ah, il tipo vuole dire? Morto. Care per terra e anche lui morto. L'altro ormai niente da fare, è troppo fuori. Ok. Arriviamo noi dentro te. Mi stupisco di te. Mi stupisco di te. Mi stupisco di te. Io avrei tirato una freccia sulle gambe a questo, ucciso quello e poi essere andato da lui mentre si trascinava estraendo il coltello dicendo E dove pensi di andare, Merdina? Dove vai tu? No! In testa! No! Tu non hai capito. Polla di fuoco! Non conosci ancora così bene una raccoglia. Il libro è la creatura da reti. Mi alessino tranquillo e le faccio capire che sono amichevole. La liberi. La libero. Si alza in... Non so se parla qualche lingua o... Sai che tecnicamente non parla, però può parlare telepaticamente. Si... Libra il volo in una spirale, ringraziandoti e grazie a te. Mi è rimasto ancora uno. Ci penso io. Vedi perché non ho preso dimmi da quello? In realtà volevo chiedere se mi portava volando e... Quindi... Appoggia la sua testa sulla tua fronte e poi vola via. Volando in direzione del goblin. Tu, tra gli alberi, in lontananza, non capisci bene cosa sta succedendo. Ma... A mio Dio! Esatto. Quello che senti lo vedi volare sulle cime degli alberi e poi la sua forma lungilinea la vedi trasformata in qualcosa di tozzo che cade al suolo. È salico tantissimo. Corro. Corri in quella direzione. Sì. Sono preoccupatissimo per quella... Cioè, eri così bella? Quanto cosa hai mangiato? No. Corri nella sua direzione e noti che, appunto, la creatura sembra essere sparita, sembra essere andata via. E quello che resta del goblin è un qualcosa di completamente maturato. Certo. Ah, no. Ok. Senti un leggero pizzicorio alla fronte. E basta. Pochi secondi dopo, arriva Yukio insieme alla gente che ha svegliato. No, in realtà noi arriviamo qui e poi qua vediamo un massacro. Esatto. Sì, poi vedete a me tornare indietro con... Ok. Ho risolto. Ma ci sono i goblin qui! Ah, questa è una grande domanda. Che è successo? Cosa prendi? C'erano dei goblin che stavano tenendo fermo un... Quattu. 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 Ah, io ho detto, questo non ho l'armatura. No. Natura! C'erano dei goblin! Natura o arcana? Ho natura o arcana. Di venti in natura. Venti in natura. Sai quello che sai. Sai che sono fetture buone, quasi leggendarie, che vivono a lungo del tempo. Stavo facendo una ronda con Yukio. Io ho fatto un 18 di arcana. Oh, va. Stavo facendo una ronda con Yukio e ho sentito una voce dentro di me che mi ha detto aiutami. Tu quello che sei in più di arcana. E ho già sentito questi rumori. Sai che hanno la capacità di trasformare il loro corpo. Quindi sono venuto a controllare. C'erano dei goblin che stavano tenendo sotto rete con delle reti il co-4. E sai che io sono i goblin, ecco. Sì, sei drastico, come si... Esatto. Si vede. No, non ne ho fatti fuori tutti io, solo tre. Hai imparato bene. Hai imparato bene. Hai imparato bene. Hai imparato bene. Dov'è in realtà? Perché uno l'ha fatto fuori... Tu non lo sai. Per questo ho detto fuori game, hai imparato bene. No. Quindi... Quindi... La creatura... La creatura la può essere liberata e se n'è andata. Ok. Oh, ma io volevo... Chi è la... Eh... Io non sapevo quanto fosse grave la situazione quindi ho detto aiuto di svegliarmi e sono corso. Perfetto. È una bella creatura se ti ero piaciuto vederla. Eh, lo so. Vieni. Quindi... Vado a recuperare Stronzo. Vai recuperare Stronzo. Gli do anche una bella pacca sul fianco perché si è comprato da un bravo cavallo. Quando? Sei stato proprio bravo. Stronzo. Sì, bravo Stronzo. Bravo Stronzo. Perfetto. Eh... Sono tornato a dormire. La situazione sembra essersi calmata. Eh, immagino. Tornate. A dormire. Prima di tornare nel sfogo toccarci al goblin che mi hanno svegliato. Io controllo solo se i goblin hanno addosso dell'oro o roba. Tira. Ah, investigation. Più che oro io cercherò se hanno alcuni altri documenti. Investigation. 17. 17. 5. Ok. Documenti non ce ne sono. Riesci a trovare un totale di 5 monete d'argento. Un totale. Ci parlerei in metallo. In metallo? Di varie armi eccetera. Ok. Ognuno di loro ha un pugnale. Sì. Sono pugnali molto grezzi. 1,2,3,4,4,5,6. Mi interessa il materiale. Esatto. Sono pugnali molto grezzi e alcuni di loro hanno anche dei giovellotti. Però fatti tutti di legno. Quindi sono 6 pugnali. E 3 giovellotti. Però sono in legno i giovellotti. Non lo punta in teoria in metallo. No, completamente no. No, sono tutti i legni. E' la prima volta che lo usi? No. No, no, no. E' vero. E' vero. Scaldi il metallo. Lo lavori un attimo. Ed effettivamente è più grande. Quante ho? Non è meglio togliere i cadaveri da qui? No. Ci dico esattamente. Giusto perché forse avvierebbero bestie. Se gli dici di gestire i cadaveri quello che non ti comincerà a prenderli. Quanto fa lontani dal campo? Siamo più di 100 piedi dal campo. E' abbastanza lontani. Sì. Ah, ok. Tra l'altro io avrei detto a Yukio di rimanere al campo col mio falchetto che mi avvisa se succede qualcosa alla mercantessa. Que? La mercantessa. Mercantessa. Non mercantessa. Non mercantessa. Mercantessa. Mi pare che sei italiano. Bene. Quanto è una libra? Dovrebbe essere tipo poco meno, poco più di 1,5 kg. C'è un'acqua da 30 libra e l'impressione sono 15 kg di punta. Ok. Allora sì. Allora sì. Quindi sono 3 kg di metallo. Ok. 3 kg. Ok? Bene così. Andate tutti a dormire. Ricominciate i turni di guardia. Percizione. Percizione. Sono un po' troppo distratto dal racconto di un albero. E mi immagino la bestia alara. Ho fatto 8. Eh sì. Ti immagini la bestia alara. Vista? Eh sì. Allora a vantaggio. Quindi. Prenderò il primo. E quindi più 4. Quindi. 18. Il falco. Io ho fatto un bellissimo 6. E Milano, non so cosa. 8. Un pull 2. Non sembra che... Non vi sembra di vedere uno, no? Forse perché ti distrae un po'. Ma è bella che è. Sì. 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 Ma guarda che fantastico. C'è fuoco nel campo? C'è il fuoco nel campo? Sì. C'è il fuoco nel campo? C'è il fuoco nel campo? Sì. C'è il fuoco nel campo? Sì. Sì. Ok? Quindi. Voi non vedete niente di che. Il falco ti dice che ci sono animaletti in giro per alberi eccetera scodiattoli eccetera. Non vi sembra di vedere altro. Ok. Se glielo chiedi. E quindi passa anche il vostro corpo di guardia. Arriva il turno del grande possente. Vai Ziga! tra l'altro se io dormo comunicando telepaticamente con me riesce a svegliarmi giga fa 16 è vero che sento una voce nella testa 11 se dice 11 perfetto anche voi passate in tranquillità non mi sembra di sentire niente di incredibile vi svegliate il giorno dopo parte il campo e ricominciate la camminata verso la città sotto la pioggia certo che si oggi niente pioggia c'è il sole qui viaggiate in tranquillità verso nord e la signora ume appunto vi dice se è successo qualcosa la notte ha sentito forse vi ha sentito allontanarvi c'è stato un piccolo un piccolo gruppo di goblin ma niente di grave ok perfetto grazie viaggiate voglio sapere la cosa in qualche effetto perfetto è direi che se non avete qualcosa da fare durante il viaggio arrivate nella città di agi arrivate di nuovo nella città di agi nella città appunto con la vedete da lontano con un muro completamente di pietra che la circonda schiacciata vicino appunto al mare in centro alla città notate quello che è il castello presente alla dimora della del luogo tenente degli zucca insieme alla sua famiglia che gestiscono l'intera zona cioè tutta l'area geografica è appunto entrando in città siete circondati da gente di un po' tutte le razze prima roba che faccio quando siamo nelle prossimità della città e comunque a fermarmi devo parlare con le guardie cittadine come medicino buongiorno vorrei segnalare l'altra notte noi siamo in viaggio da oro ieri notte abbiamo incrociato un piccolo gruppo di goblin nella foresta ah goblin quindi volevo segnalarvi la presenza di un piccolo gruppo di goblin non è stato grandissimo come scontro però ce n'erano comunque alcuni perfetto lo avviserò al comandante che saprà dire grazie mille e poi entrate in città e appunto dopo tutta la giornata di cammino e dove volete andare a riposare la signorina ume vi paga io chiedo di essere pagata in spezie in spezie? in spezie, erbe e quello che ha ah ok va bene ok non so mi dà qualcosa in particolare cioè ho parlato con lei per cercare di capire se le spezie che mi dà sono giuste per il compenso per quello dei prezzi delle spezie ok sì cioè sempre che se ti vuole fottere sendo un mercante ti fotte sì lo so ma mi interessa il prezzo commerciale di quelle spezie ok no sì ti dà quello che è normalmente un po' di più di quanto vende normalmente al mercato per due monete d'argento una mancetta di cuglio una mancetta di cuglio toh govetela govetela esatto mangiatela tutta a bocchio semplicemente no sì ti dà un po' di spezie te le consegna e via così quindi entrata all'interno della città sta calando il dubbio comunque ormai tutta la giornata è camminata dove volete andare a soggiornare? e allora la locanda da ormai un'altra volta come si chiamava? non era l'albero bilano l'albero bilano era quella oro no eravamo al rubino al rubino rosso tipo quelle robine quella costosa eravamo al rubino torniamo lì cerchiamo un'altra locanda oh ma io mi sono andato molto bene allora andiamo a dormire là vedete là? poi siamo vicino al mare perfetto perfetto quindi camminate passate attraverso tutta la città i suoi vari vari vicoletti passate attraverso vicino al al castello del del dzuka che vedete essere ornato d'oro è su più piani sono tre piani da quello che non date ed è stato costruito su un rialzamento di terra rispetto a dove camminate dove c'è la maggior parte della gente camminate appunto per i vari per le varie parti le varie zone della città passate anche per la zona dei nobili in cui al momento vedete vari vari servi che stanno portando a casa vari merci per iniziare a preparare la cena per i padroni e arrivate al al bordo della città vicino al al tempio dell'irrequieto eh vicino al tempio di omezu dove appunto potete vedere sulla spiaggia varie molte d'oro lanciate in acqua al alla locanda del rubino entrate dentro la la locandiera vi guarda vi riconosce e vi dice buongiorno buonasera ormai buonasera scusate è stata una giornata lunga posso fare qualcosa per voi? volete mangiare una stanza una stanza il cibo per il mio cavallo del cibo per noi perfetto possiamo fare tutto volete di nuovo la stanza con la suite volete una stanza insieme la suite prevedeva la vasca una vasca e uno specchio erano due monete d'oro per la suite con la vasca e lo specchio altrimenti il resto sono sette monete d'argento per dormire devo prendere la suite la suite sono due monete d'oro per tutti cioè abbastanza non due monete d'oro no sono due monete d'oro per cinque da farsi in cinque persone ecco esatto quindi si si allora prendiamo la suite qui c'è la vasca esatto e lo specchio ecco hai una paperella per giocare nella vasca Milo? no no e da mangiare che cosa stasera? da mangiare abbiamo del pesce di oggi abbiamo anche un po' di piovra se volete e se no vabbè naturalmente pesce marinato con colvaceto per conservarlo un po' di riso che viene da nord e un po' di selvaggina presa nella foresta selvaggina un po' di birra selvaggina un po' di birra io prenderò il pesce di riso certo e l'acqua e l'acqua ok una porzione per il cane qualcosa per il cane perfetto detto ok google perfetto quindi sono perfetto due monetti d'argento due monetti d'argento a testa per pagare la stanza si esatto il cibo vi costa tre d'argento in totale ecco quindi cinque d'argento in totale si mi tolgo mi tolgo direttamente una malattia da ore e tante cari cose esatto quindi vi consegna il cibo mangiate bevete mi tranquillizzate ti guardi un po' intorno ti guardi un po' intorno e vedo se c'è qualche gruppo tre violette chiamiamolo avventuri di gru di avventurieri comunque c'è gente che vedo e come noi è viaggiato un po' di qua un po' di là mercanti ok dell'equipaggiamento anche con equipaggiamento sembra esserci un gruppo di quelli che si potrebbero chiamare avventurieri forse mercanti cioè forse mercenari nell'angolo della stanza ok ci sono ce li vedo abbastanza tranquilli blandi sono schivi al momento sembrano tranquilli sono cosa sarebbe sarebbe buffo chissà sono abbastanza tranquilli appunto all'interno del locale hanno preso un tavolo all'angolo ma sono in tranquillità da quello che che noti sono tre uomini e due donne di cui due sono vestiti in un'armatura leggermente più pesante e le donne invece hanno vestiti leggeri una praticamente in un'armatura l'altra probabilmente da come come vestita è molto probabile sia un bar tool come comunque uno strumento musicale addosso e l'ultimo umano vedi avere al collo un pendente con un simbolo di una mano con un pugno chiuso dietro un tramonto che sai essere il simbolo del del grande che è la divinità una delle divinità più più conosciute di Isaki il grande ok e boh mangiucchi un poco con loro poi una certa io provo da quel gruppo di persone lì che mi sembrano viaggiatori come noi a cercare di resimulare qualche informazione in più sulla regione in generale e poi vedrò di portare l'argomento sull'abirinto che è l'abirinto butto un occhio ah già scusa non te l'ho detto c'è un posto qua vicino che si chiama il labirinto di Anglock si dice che sotto ci siano dei cunicoli in cui si potrebbero trovare parecchi tesori cosa stiamo aspettando aspetta e fa paura le persone i contadini che sanno là in zona si giusto non devo sorridere mentre parlo di qualcosa che fa paura le persone riconosco i contadini da in zona sono un po' spaventati cioè perché i cunicoli sono crollati ma sembra che un ultimo temporale avrà perduto parte degli ingressi e che qualcosa più 5 è intelligenza giusto no più 5 più 5 non lo so però dal momento che ieri abbiamo incrociato Anna un cubato potrebbe essere che le creature siano di quella sorta che ci andrebbe bene perché sono buone mi sembra di riconoscere i lineamenti della meglio informarsi della donna senza armatura forse l'hai vista in accademia una maga probabilmente una maga mi sembra di averla vista in accademia ah non saprei dire se è se si tratta di un po' di ieri probabilmente l'accademia sarà una maga mi giro per il tavolo esatto che dicevi? mi do l'altro le riconosco addosso qualcosa di particolare si 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 quindi magari che di solito sei paranoico no non sono paranoico si inizia a suonare tu sei paranoico eh che te lo ha detto prova a fare qualcosa di alternativo mentre suono si ci butto in mezzo anche ai parti di racconto su quello del combattimento con il demone ombra del combattimento con il demone ombra ok 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 ti tengo il tiro ok quindi ma cosa sta facendo? bolstag lo vedete suonare e cantare dell'incredibile avventura di bolstag e ma fai a svolarla con la musa mentre canti perché una volta che ci butti l'aria poi ho capito è complicato è complicato è complicato è complicato ma tra una pompata d'aria e l'altra riesce più o meno a farlo e canta delle sue gesta nello sconfiggere il demone ombra notate che buona parte della gente all'interno della stanza si gira a guardare ad ascoltare quello che bolstag sta narrando ti ricordo che c'è ah no in quella non c'è c'è solo l'esaltazione del fatto dell'araldo intanto era in questa città dell'altra che qui aveva insultato il nobile nell'altra ah anche la parte dell'araldo di coso? no l'araldo di coso c'è solo all'inizio un accendio ok ok va bene perfetto una città sacra di queste cose io mi lascio a guardare con il studio tutti ieri ti avvicini? si ok che fai di in realtà li guardo penso che mi dici tra le volette credo ci riconosciamo come gente che comunque viaggia un po' si chiaramente gli chiedo se posso sedermi in tavola con voi no si prego accediti salve salve io sono un'ara piacere io sono arrivato oggi qua in questa zona qui quindi sto cercando un attimo di capire diciamo cosa si può fare qua quei laboretti ci possono ci può stare con uno che ha viaggiato ha fatto un po' di guerra e sta cercando di risistemarsi nel mondo dai traumi io non so che cazzo di età abbiano questi tizi sono abbastanza giovane ah ok perché mi immagino sto sto tre di penne quarantenne ha fatto pure palazzino eccetera che si vede arrivare un tizio di diciassette anni fa ah ho fatto un po' di guerra adesso sto cercando di farmi passare i traumi allora la persona che ti ha detto certo si è di pure ti si presenta ti dice che si chiama Sigeo ed è uno dei due in armatura e la donna che porta uno strumento ti inizia a parlare si presenta lei si chiama Sumiko e ti dice che è comunque una città molto grande sicuramente se sei capace puoi sicuramente parlare con qualcuno puoi parlare con gli Zucca direttamente per forse qualche taglia non so non sa quanto bravo sei però probabilmente cioè normalmente qualche qualche problema c'è loro sono in verità appena arrivati però essendo una città abbastanza grande qualche problema c'è sicuro quindi se vado agli Zucca sicuramente loro ti possono aiutare altrimenti per altre cose non sanno niente di incredibile allora conoscete magari qualcuno come noi qua da più tempo? in verità non conosciamo nessuno in città stiamo viaggiando stiamo girando un po' il mondo esatto ne siamo appena arrivati noi noi arriviamo dalla città di shimayama shimayama io mi sono immaginato un samurai che estrae la spada shimayama quindici 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 ok sai che la città shimayama ehm 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 lo nilo vorrebbe tornare per andare all'accademia ci sono due miei compagni in viaggio che hanno fatto l'accademia a shimayama ah davvero ci si è una che stai diventa quella cosa enorme che sta suonando si lui immaginavo ehm 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 quella specie di cosa microscopica sulla shimayama salve 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 ehm persone superstiziose diciamo c'è gente che dice che il il clan di tokugawa stanno facendo cose strane ma niente di niente di acquida il peso più che altro ehm non so se ehm dovete andare verso dovete andare ma ma noi stiamo venendo da sud si oggi da Aoro si ehm aoro abbiamo sentito storie su un posto che dovrebbe trovarsi qua vicino una specie di labirinto un labirinto? si mi pare l'abirinto di Yengok ah o qualcosa non l'ho mai sentito ehm 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 perchè dicono che questo è un posto comunque interessante dove si possa trovare un po' di avventura ah ho capito ehm però dopo noi in realtà veniamo da un paese un po' più a sud mhm ehm ehm da Miloia ehm non lo conosco mi dispiace ehm 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 però lì abbiamo avuto dei problemi grossi con goblin, badbeer e cose simili ehm e quindi abbiamo deciso i nostri amici bardi hanno scelto di andare su a Shinigama perchè vogliono diventare più poco ah ho capito ho capito ehm no niente quindi l'unica cosa se forse vi interessa visto che hai cercato un po' di avventura ehm so che ehm c'è esorto qualche problema ehm a Kota ehm un piccolo villaggino ehm vicino a Sado che è un altro villaggio partendo da qua due giorni di nave è arrivata a Sado so che la vicino c'è gente che è sparita gente che si comporta in modo strano queste sono le voci naturalmente poi non siamo effettivamente passati per via ma per curiosità si ma questa cosa ha detto Kugawa queste voci qua cosa c'è chi le dice cos'è? ma ci sono alcuni eh alcune persone del volgo qualche contadino che eh si lamenta principalmente che il il capo non il capo dei topogaw il capo clan non non si può più vedere da un po' di tempo ehm ehm da quello che si dice è chiuso all'interno dell'edificio ehm appunto non esce non si fa vedere però eh insomma io ho qualche qualche contatto nel clan dei comunici ancora ce l'ho eh dopo l'academia sono restato l'ambastanza sono restata l'abbastanza quindi da quello che so non sta succedendo assolutamente niente di che calcio quindi sa giusto gente che parla ah beh grazie grazie di tutto e ci vediamo in giro certo e buona fortuna in caso per la vostra avventura no boh vedo che si allontana non faccio perfetto voi altri? lui bene vieni ugo voi altri due cosa fate invece? io mangio tu mangi si in realtà se lui fosse rimasto là mi sarebbe avvicinata anch'io a chiedere boh cose alla maga ma c'era male e me se io torno con la faccia di Spongebob non ne sanno un cazzo che l'avevi vinto ma quindi tu gliel'hai messa e adesso gliel'hai detto e lo sanno anche loro no non gli ho detto tutto gli ho detto che abbiamo sentito parlare di questo posto ma siccome sono arrivati anche loro da poco qua in città non sanno darci un riferimento però mi hanno detto che possiamo cercare avventura o in un paesino disperso un paio di giorni da qui qui si chiama cotta magari se tu avessi fatto percepire intenzione avessi potuto scoprire se ti stanno paraculando no e invece invece no punto oppure possiamo chiedere a come è la tortezza della famiglia la zucca o possiamo chiedergli il zucca per eventuali taglie e quindi c'è sempre una cosa buona ma questo com'è e basta dai basta la paranoia la paranoia porta il futuro eh guarda Borsack guarda Borsack quindi io ho fatto la mia parte adesso cerchiamo di resimulare informazioni da qualsiasi altra persona ok qua no Milo aspetta non volevo dire esattamente così ma no ho capito stai tranquillo cerca solo di farti dire se sanno dov'è se sanno qual'è si stai tranquillo andiamo a parlare con la locandiera bravo grazie buongiorno buongiorno buonasera buonasera e di gradimento al cibo? si molto buono eeeh mi sembrava perciperi il salito o il salito? il salito 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 siamo venuti qui non so se si ricorda anche la proposta certo certo mi ricordo di voi perfetto eeeh ecco adesso siamo qui di passaggio stiamo andando verso noi il punto è che passando avanti e indietro abbiamo sentito delle voci di gente spaventata da una sorta di labirinto che si è riaperto ah eeeh scusa dove eravate prima? perchè siete allontanati nel senso? ah si siamo venuti qua per cercare delle informazioni eeeh dalla biblioteca si e poi siamo dovuti tornare per problemi ci sapio che ti sei raccontato ah ma devi usare la città di Oruk ho capito si no adesso abbiamo risolto il labirinto di Angok si ho sentito qualcosina in giro si che si è aperto a quanto pare si da quello che ci hanno detto le persone sono molto agitate con questa cosa e nella zona si ecco ci chiediamo non mi stupisce se qualcuno più a ovest si sia un po' spaventato di questa cosa è a ovest questa cosa si è a ovest da qui dovete lasciare la città eeeh fare mezza giornata neanche passata attraverso i campi a ovest e dovreste arrivare abbastanza facile vicino alla costa è abbastanza facile da vedere ok seguite praticamente il costone da quello che entrando nella città hai visto che è praticamente per parte eeeh per vari metri vai centinaia di metri c'è ancora un po' di spiaggia e eeeh campi poi inizia un po' la la foresta eeeh la pendenza inizia ad aumentare e c'è effettivamente un costone eeeh di roccia di roccia ok e ti dice appunto seguendo il costone dovresti arrivare più o meno all'entrata ma ci sono molti cioè i bambini eeeh tanto tempo fa cioè in verità da quando sono qua non sono qua da tantissimo però eeeh continuano tipo ad andare la per sai le sfide dei ragazzini eccetera lo so che è pericoloso eeeh più che altro è pericoloso se si perdono eeeh perchè al momento è sempre chiuso e è più persparenza così come le madri ai bambini ma le guardie della città non fermano non bloccano la zona se è pericolosa eeeh ci provano i bambini sono piccoli sono tanti eeeh diciamo che se qualcuno non vuole farsi notare non si fa notare ok eeeh sa dirci qualcosa di più eeeh riguardo a cosa al al labirinto eeeh guarda eeeh può essere nel senso se trovi qualcuno che è nato e cresciuto qua è probabile prova guarda facciamo così eeeh lei guarda un attimo nel locale e ti dice prova a chiedere ad avi l'uomo là in fondo e ti ti indica un uomo di mezza età ok eeeh con i capelli bianchi eeeh ti dice che probabilmente lui è nato e cresciuto qua quindi probabilmente eeeh se qualcuno sa qualcosa di più eeeh prova a chiedere lui perchè lei non si è mai interessata tanto di queste cose della della cultura insomma del posto eeeh anche lei insomma ha aperto il locale da relativamente poco eeeh quindi prova a chiedere ad avi probabilmente ne sa più non c'è di che io non mi ricordo oh tu non ti ricordi io non mi ricordo una cosa si la isoka delle lettere si era scritto che si era allontanata per andare a eeeh c'è un scritto aji ok non c'è il scritto ad aji ok eeeh c'è un petto per la taverna andando verso il vecchietto ok arrivi buonasera salve salve lei è il signor Ago eeeh Haru 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 sono io ho sbagliato il schienzo del suo nome signore non c'è di che buonasera buonasera io sono Milo Lyle Reed Popium Reilac Franklin Quanti nomi piacere eh dalle mie parti noi abbiamo un sacco di nomi e dove vieni ma io vengo dal villaggetto di Midoria assurdo di qua ma va mia nonna era di là tua nonna? si poi lei e mio nonno si sono trasferiti qua sono fuggiti com'è il villaggio? io non sono mai stato è bellissimo il villaggio è un villaggetto in mezzo alle campagne la mia famiglia gestisce dei campi coltiviamo un sacco di verdure che bello e abbiamo un sacco di cani è molto bello ci si vive bene 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 sono felice no appunto mia nonna ha dovuto è dovuta scappare tra virgolette dal villaggio ho avuto un paio di problemi però mi dispiace eh vabbè sono cose che capitano però insomma si è trasferita qua siamo qua comunque sì comunque volevo disturbare la sua cena ecco nessun disturbo semplicemente la locandiera mi ha detto che potevo parlare con lei c'è già il originario di questo posto certo non ti è cresciuto ecco noi abbiamo fatto una scampata qui pochi giorni fa in realtà nella biblioteca poi siamo dovuti tornare indietro a risolvere dei problemi alla città prima però nel viaggio abbiamo sentito parlare di un labirinto che si è aperto e che ho sentito qualcosa e che spaventa le persone ecco volevamo magari dare una mano per bloccare questo labirinto o far smettere le persone a non essere spaventate ok allora cosa vuoi sapere? beh ecco il mio gruppo vorrebbe appunto affrontare i pericoli di questo labirinto per bloccare la minaccia si può dire così quindi magari la locandiera mi ha già spiegato dove è il posto se si sa dire più o meno cosa potrebbe esserci dentro ok cose allora non sono mai entrato nel labirinto non so di gente se no le chiamo i miei amici così parla tutti insieme ah ok va bene basta che la nostra in piena in piena in piena e basta ok io yukyu e yume andate andiamo verso l'attimo intrattengo la gente intrattengo la gente e attiro l'attenzione così si qualizzano su di meno perfetto quello sei bravissimo eh lo so loro sono onore ah piacere e il ultimo piacere piacere e quindi si stavo dicendo non sono mai entrato nel nel labirinto ho sentito delle storie principalmente fatte da mia mamma c'è gente che dice alcuni contadini se qualche giovane glielo chiede giurano di sentire dei tamburi arrivare dal profondità della terra da dovrebbe essere comunque abbastanza grande come labirinto è un deja vu è un deja vu eh so vai da quei lobali so eh che è comunque molto eh molto antico eh non 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 so da quanto so che è molto antico so che appunto gente parla di eh di tamburi eh alcuni parlano di spettri altri di eh morti che ritornano in vita eh sono per la maggior parte in verità solo storie da raccontare davanti al fuoco non non ho mai sentito di effettivamente incidenti accaduti eh però finora è sempre stato chiuso la maggior parte delle volte erano solo appunto ragazzi che andavano la come prova di coraggio e passavano la la notte magari qualche madre restava preoccupata del fatto che non tornavano a casa quindi poco altro. da qua quanto ci si impiega ad arrivarci? mezza giornata mezza giornata mezza giornata di camminata beh siete arrivati non è neanche difficile da arrivare sì potremmo partire domani mattino sì io va bene però se si tratta di perché non so se dopo quando ci allontaniamo io non so non so quindi torniamo a mangiare una volta che si è detto tutto tutto strama qua non penso si sia altro da so però esiste una mappa del labirinto? qualcuno ne ha fatta? qualche avventuriero? non credo che sappia quello che so è la prima volta che si è effettivamente aperta ma ok quindi è da poco questa prova di coraggio magari non è neanche un labirinto la prova di coraggio è stare vicino all'entrata che era chiusa perché era crollata semplicemente nessuno ha avuto il coraggio di aprire e vedere cosa c'è dentro ok adesso da quello che ho sentito appunto un fumo mi ha fatto esplodere tutto e c'è effettivamente il modo di entrare ok questo è grazie grazie mille grazie mille dell'informazione io mi fermo ancora un attimo da lui non so voi quando voi andate pure io sento che mi fermo ancora da lui sì chiedo senta ma chiedo una curiosità lei è nato qua che mi conosce sì parecchia gente qua abbastanza sai una certa chisoka che è passata da fuori ma te parlo di anni addietro ormai anni addietro? cioè qualche anno fa quanto meno le lettere erano vecchie no? sì non mi pare se mi dai solo il nome prova da dare un po' di contesto dovremmi ritrattarsi di una donna che proveniva da Oro che aveva il suo amato d'Oro tra tale Tommaso Tommaso delle lettere di ad amore verso questa donna e dovevamo informarla quantomeno magari se fosse ancora in vita visto che il nome era anziano ma ok sfortunatamente non non mi pare di conoscere l'unica altra cosa che ho è questo e ho sul vostro la negrino ok no non mi dispiace c'è qualcuno a cui posso chiedere che magari oppure ci sono tipo degli uffici dove ho registrato per la popolazione all'interno del del castello degli Zucca c'è una sezione per il conteggio dei cittadini e normalmente la vengono anche segnati le nascite quindi probabilmente riuscireste a cercare qualcosa ok grazie non c'è di che qui è simpatico un pochino il carino il nostro paesino ah si si che è per dire ma lui ma lui ok quindi la giornata arriva a termine e noi arriviamo per la sera comunque si si i commensali divertiti come divertiti non estasiati divertiti in parte estasiati ecco dal tuo racconto in totale ti danno tre monete d'oro iiii bello sto posto beh sto posto quindi io vi dico solo quando siamo da soli che se effettivamente ci si tratta di non morti o spettri le nostre armi se veramente incominciamo quella cosa del genere le nostre armi non gli fanno nulla anche la nuova magia rischia di essere inefficace dovremmo quantomeno equipaggiarci bene tipo e cosa che fa male al dispetto? non so bene devo fare delle io vorrei il sale no l'odio ti tiene lontani il dispetto sì anche il sale mi dicevano noi è arrivato già tramontosissimo salsera sì io semplicemente dopo che abbiamo incontrato suo tizio e ho chiesto di foca dico che boh se abbiamo incontrato se effettivamente rischiamo di incontrare spettri non morti le nostre armi e i miei campesi mi rischiano di essere inefficaci ci occorre prepararsi non ha senso andare là domani ed entrare nel rabirinto se non siamo equipaggiati quindi piuttosto vorrei fermarmi a fare delle ricerche e magari vedere se c'è del equipaggiamento va bene un aglio se scaccia gli spettri sì anche le persone il milu sì anche il sale cioè però io per quanto poi sono in stanza metto nella pietra ah tra l'altro e vi parlo con Aisy cosa dici? Aisy sì ho salvato un comatle mi ha toccato la fronte e mi ha mi prude ma ti prude ancora? allora un assoluto non so come si dice mi prude al passato quindi ha detto mi prude va bene pruso prududo piove mi prudò mi ha fatto cose contro la mia volontà adesso prudette non ne ho idea mi prude ok dovrei vederlo ma conoscendo la creatura non penso sia niente di malvagio in teoria in teoria questo messaggio questo messaggio è ok dovrei vederlo ma non penso sia niente di malvagio in teoria stai per mettere giù in teoria in teoria come? e fino domani pomeriggio? non lo saprò mi prussia mi prussia mi prussia ok quindi e andate a dormire andate a dormire? andiamo a dormire andate a fare la nanna a fare la nanna perfetto io metto dell'aglio sopra la finestra perfetto mamma mia panculo a tutti i vampiri io mi faccio un bagno tu mi faccio un bagno? anch'io mi faccio un bagno no perfetto tutti voi vi fate un bagno tranne vostra io non lo so ma si no ma si facciamoci un bagno no non entri nella vasca prendo l'acqua ok no penso che l'acqua va tutta fuori se entri nella vasca tu no paura di annega in una vasca? ehi è una piozza sai che casino succede se borsa finisce la testa e ingiuno nella vasca voi non riuscite a tirarlo su infatti la vasca si rompe penso probabile quindi no ma più che altro tu scopriresti zone perché noi scopriremo zone che non abbiamo mai visto perché le fardelle al contrario e quelle zone non hanno mai visto la luce che brutte cose perché mi devi far immaginare cosa del genere? oh yeah perché scusa voi mi avete dato l'immagine brutta di un volstag oliato e frizionato riscio riscio come il culo di un babà ok ecco fatevi vendicare un incanto che brutto quindi passate la notte vi svegliate il giorno dopo sì e cosa volete fare? io ci metto un po' a scendere dalla stanza perché devi recuperare l'aglio? no io ci metto un po' a scendere dalla stanza come mai? perché mi imbardisco il mio equipaggio mi imbardisci? mi imbardisci e ti equipaggi? in che senso? nel senso che mi leggo tutto l'aglio attorno va bene ho messo la coroncina con i triangolini di carta ok ok e mi metto tipo un sacchettino con del sale legato alla cintura va bene e così hai perso tutto il incarico che riesci a portare no 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 e poi c'ho lo zainetto circondato anche quello da un po' d'aglio ok con un tipo un aglio appeso ok appeso allo zaino e poi scendo le scale c'è chi ci metteva le cose negli anni 70 io prendo Yukio ti metti i fondoli ti prendi Yukio Yukio facciamo colazione andiamo a fare un sopralluogo iniziono la fortezza va bene io vado in biblioteca a studiare a cercare le informazioni iniziono la fortezza iniziono l'abirito no ok vado a vedere qualcosa per l' equipaggiamento vedi che la cipolla provate 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 vedi che Bobby è così c'è la cipolla in testa cipolla aglio peperoncino degli spaghetti Bobby c'ha anche lui la cipolla in testa è chiaro che bello che bello non andiamo subito alla canale all'avvento? no no l'ho detto ieri sera dobbiamo equipaggiarci bene prima non sono equipaggiato bene ok Nilo no Nilo in questo momento si è equipaggiato bene per allontanare la gente non per allontanare gli spiriti prenderla un coso dai nello senso no 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 bell'aglio cucinato e crudo non è che fa tanta differenza oh no quindi io prendo Yukio perfetto quindi anche l'aria che esce dalla colma musa adesso sa di aglio saliamo di sella stronzo se non ti prendi un altro cavallo Yukio ancora presto si no grazie è bello Yukio il stronzo è un bravo cavallo è vero dov'è io Yukio il sella stronzo la roppiamo verso il fortello e verso il labirinto va bene anche io vado al labirinto io Yukio e Milo la roppiamo verso il labirinto a cavallo a dorso di Milo col cavallo col cavallo sopra Milo infastidito dall'aglio di Milo perfetto quindi avanzate voi tre tranquillo stronzo una corona d'aglio anche per te ok quindi galoppate in quella direzione e arrivate in poche ore nel punto in cui effettivamente pensate esserci dentro quello che notate è che il terreno è completamente bruciato sembra che effettivamente uno o forse più fulmi sono caduti nello stesso punto scavando il terreno tutto intorno all'aria sono ancora in più o meno zona foresta più o meno sì te lo considero al momento foresta quindi quello che vedete è la scogliera sulla bascala destra e in un piccolo in una piccola zona di di radura ok questo appunto terra bruciata con un foro all'interno del terreno che dopo un paio di metri notate essere scavato effettivamente nel terreno con pietre scure e delle lastre che formano scalini che scendono all'interno possiamo posso controllare se andiamo prima un'occhiata qua intorno io vorrei controllare se effettivamente noto qualcosa di strano nei colpi di fulmine prima di muoverti in giro cerchiamo impronte vediamo se ne siamo gli unici o se c'è qualcos'altro bella idea che devo fare super nel mentre io tipo andrei alla ricerca di un fanbro ok e quindi mi sembrerebbe sapere quanti kg di ferro mi servono per farmi un elmo un elmo come? stavo per dirti un elmo aperto davanti un caschetto da spartano insomma una cosa bene o male si bene o male da spartano decorato ok decorato direi che dovresti informarti su come è fatto l'elmo del dio e farlo sempre vediamoci quanto è un elmo da 5 kg in testa non chiedi facendo infatti no sarà 2 3 kg allora ce li ho perfetti no 3 kg se lo fai spesso è un anno 3 kg si poi dipende quanto spesso vabbè è un anno 3 kg non c'è io non c'è io no vabbè io dico 3 contando anche gli scarti cioè se hai 3 kg ce li ho ok ti fai un elmo e il resto ti fai un elmo e il resto ti fai un elmo e il resto e il resto sono scarti di lavoro e in più cercherai di barattare la spada con un martello La spada con un martello, di barattarla Scambio Scambio Una delle spade è quella delle guardie Quindi di bella fattura Di bella fattura, assicurati la tua Ok, controllo un attimo i costi E in caso sono anche disposto a cercare di pagare la differenza No, non più No, no, ma questo che ci sta alzando bene Mazza E no, no, ho lasciato la punta sulla aperta Una giardia Maul No, maul qual era? Maul è un malo Non è fatto Un malo 15 monete d'oro Mentre una spada Dicono che se vuoi fare un cambio Puoi farlo tranquillamente Ok Quindi ti danno Un martello da guerra E si prendono la spada Il martello da guerra danni è Per riaprire Sono Un di otto danni contundenti Versatile Da un di dieci Ok, quindi come battle axe Esatto Quindi se lo usi con due mani Un di dieci Ok Allora, cercare tracce Lui ha fatto 5 5 Io ho fatto 14 Io ho fatto 20 In totale Ok Cercando tutto intorno Notate che Al momento Non sembrano esserci state tracce Presenti sul terreno Nell'intorno della zona bruciata C'è stato Ci sono qualche tracce Yukio nota qualche tracce Di animale Ma All'interno della zona bruciata Non sembra esserci tracce Né entrata Né uscita Vorrei Verificare Nella zona dove sono caduti i fulmini Se noto qualcosa di strano Cioè Se posso in qualche modo verificare Se I fulmini che sono caduti Sono stati Naturali Naturali O incantesi Era la seconda cosa Che volevo fare Possiamo parlo adesso Che possiamo camminare Quanto non ci sono tracce Natura 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 arcana Anche se Prova arcana Io provo Natura Ho provato un po' Io faccio Tutto 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 Natura Sì Ad arcana Allora Io che fa 11 Sai che Non è Comunissimo Che Più di un fulmine Cada nello stesso punto E non è comunissimo Che Un fulmine Vada Su Una pietra Invece che Sugli alberi Che sono Tutti loro Ho fatto Ho fatto 5 A dare No Ho fatto 7 Ah fresco Ho fatto 7 Natura E 20 Naturali Arcana Allora Come In base In base a quello Che ti dice lui Non è naturalissimo Che Più di un fulmine Cada Su un pezzo Di roccia E ti rendi conto Sai che Può essere Che Dell'energia magica Possa Magari Col tempo Se accumulata Nel tempo Portare a Una cosa del genere Quindi può essere Magico Si Quindi scaturito da sotto Cioè attirato il fulmine Penso che l'energia magica Chiusa Potrebbe aver attirato il fulmine Potrebbe aver attirato il fulmine Più di uno Da quello che si vede per terra Le macerie C'è che sono state distrutte Nell'esplodore Che praticamente esploso Si ma Verso dentro Il cunicolo Da fuori Da quello che vedi Ci sono un paio di macerie All'interno E ce ne sono abbastanza Tutto intorno Con la terra E' esploso A radici Esatto Cioè Per fare una cosa del genere Il posto deve essere Bel carico Di maglioni Un po' Giusto un po' Un po' Ma poi immagino Che YouTube Comunque tutti questi giorni Si è tornata appena A punti vita Sì Fai conto che Gli mancavano due punti vita Solo con il mio 18 A cucinare E io vorrei Faccio recuperare Un dado vita A tutti quelli che lo mangiano Ok Per via Quindi Che sono volete fare? Non lo so Io però Cioè Cercherei di Mantenere la zona Osservata E chiamare gli altri Quindi non so se volete rimanere voi Io torno indietro Oppure Rimaniamo io E Yukio No Facciamo così Yukio Tu resti un attimo qui Va bene Io e te Saliamo il suo stronzo Teniamo a riferire la cosa Agli altri Facciamo prima cavallo Per non mandare te a piedi Sì Ma sei sicuro Di lasciare io Yukio qua da solo? Beh è forte È valoroso Ha imparato abbastanza bene Posso Posso restare qua Tranquillamente No ovviamente Tanto non ci metterete tanto No infatti Visto quanto ci sono Nel sottolineare E in ogni caso Stai defilato Non farti vedere Ok È in caso Se passa il mezzogiorno E non develo tornare Non riesce da parola Defilato Non inizio a tornare indietro Ok Andiamo Voi raccino Ha maestro Voi sapere Io sono in biblioteca Quindi Voi ora Voi ora Voi ora Voi ora Tu vai a chiamare Bustak Io vado a chiamare Ok Tu vai a chiamare Yume Io vado a chiamare Bustak Grazie Quindi Tornate in città Vai a chiamare Yume Io sono in biblioteca Sto cercando Cerco cose Cosa sto cercando Allora La storia Del palazzo E del labirinto Del palazzo Non era il palazzo Del labirinto Non era Che era un palazzo Che portava dei cunicoli Cos'era No Cos'era Una serie di cunicoli Però era un edificio Che portava dei cunicoli sotterrali Sì L'entrata Era Un'entrata esterna Ah ok Che entrava all'interno Ok Voi storia Riguardando Costruzione L'uso Che se ne faceva Tutto questo genere di cose Ci impievo la metà del tempo Per l'investigation Sì Che è un più tre Quindi è un quindici totale Per questo Ok Allora Tutte le informazioni che trovi Sono informazioni Postume Alla fondazione della città Da quello che si nota Ah perché questo era più vecchio Della fondazione Ok Da quello che si nota Appunto Era molto più vecchio Della fondazione della città Nei libri Da sempre è stato chiuso Praticamente Cioè Ci sono sempre Dei Delle dicerie Su Di contadini Su fatti strani Tamburi Qualche suono Provenente dal terreno Il fatto che ogni tanto Il raccolto Nel campi Là vicino Non Per quando veniva ancora coltivato Là vicino In epoca antica Non Il gusto Non fosse Tanto buono Venissero Quasi marce Le cose Cosa di notte Chissà Giusto un pelo Giusto un pelo No Non si sfaldano toccando Aveva anche un colore strano No Non è un colore strano Non è un colore strano Però Oltre a quello Non si sa Chi l'ha costruito È venuto fuori Il nome di Appunto Questo Come cavolo L'ho chiamato Di Ngok Perché È Praticamente Uno dei contadini Che Per più tempo Che Ha vissuto Là vicino E Per più tempo Continuava a dire Che C'era chiaramente Varii cunicoli Là sotto Sentiva Cose Muoversi E Per quanto Appunto Posse Comunque chiuso Non voleva stare là Ma Quella era la terra Che gli era stata data E Continuava a vivere là Continuava a rompere A chiunque Quindi È stato Nominato Labyrintho Di Ngok Per nome di un leggendario Rompiballe Esattamente Cercherei anche Libri a questo punto Di Archeologia Di Archeologia Della zona Se esiste Non lo so Ok Mappature De Geologia Perfetto Nessuno è effettivamente Entrato là dentro Da Tanto tempo Non si riescono Non si riescono A trovare Delle mappe Effettive Alcuni Ci hanno provato Ma La maggior parte Dei contadini E della popolazione Ha preferito Evitare Di aprire Quelle cose Per Semplicemente Timore Di Popolari Piuttosto Che Appunto Aprirlo E vedere Effettivamente Cosa c'era Quindi È sempre Stato là E questa Cosa Del Del fulmine Da quello Che ti dice Anche Cioè La maggior parte Della gente Ne parlava Come Guarda Che poi Prima o poi Ti metto Là dentro Ed era Diventato Appunto Più Uno spauracchio Per bambini Ok C'è un'indicazione Di dove Viveva Su Hengok O se ci sono ancora Degli insediamenti La La casa Di Hengok Quanto tempo Fa Storia Di Hengok Quasi vicino Cioè Un decennio Un ventennio Dopo La fondazione Della città Di Abbastanza Abbastanza Tempo fa E Ci sono Delle piantine Dei vecchi Possedimenti Terrieri Di come Sono Come erano Separati Ed effettivamente C'hai anche La piantina Del Possegimento Terriero Di Hengok E La vicino Ti dice Il Bibliotecario È presente All'embraffa E A sto punto Chiederò Se Chiedo Direttamente A Bibliotecario Perché Sapevo Che era Una sezione Proibita Dico Che sono Una maga Del circolo Dei maghi Studiato Con l'accademia Vorrei consultare Dei testi Di necromanzia Perché mi hanno detto Che volendo Che è probabile Che in questo labirinto Sono riservo in cura O possono uscirne Spettri Non morti Eccetera E vorrei difendermi Per difendere La popolazione Ti lasciano La possibilità Naturalmente Con supervisione Di controllare Quei testi Cosa vorresti Cercare Una descrizione Dei mostri Dei punti deboli Dei modi Per contrastare Allora facciamo così Se Nelle prossime 48 ore Vedi Un mostro Un non morto Hai Vantaggio Sulle conoscenze Ok Ah ok Se prima lo vedo No non ho capito Nel senso Adesso te lo studi Ok Nelle prossime 48 ore Nel momento in cui Vedi un non morto Quando mi tiri Conoscenze Natura Conoscenza arcana Per capire Cos'è esattamente Ha in vantaggio Ok E l'unica roba Se c'è scritto Qualche rimedio Di pozioni O cose Che si possono Fabricare Per acquistare Cioè cose che posso Prendere come equipaggiamento Al di là Degli incantesimi Dipende tanto dal tipo Di non morto Perché ci sono Non morti Che possono O spettri Anche Esatto Il fatto è quello Ci sono Vari spettri Che sono Immuni Alle armi Se non sono Magiche Non immuni Resistenti Alle armi Se non sono Magiche Perché la maggior parte C'è la descrizione Del fatto che la maggior parte Delle armi Li passano attraverso Quasi non toccandole Alcuni Mentre Se parliamo Di scheletri Zombie Eccetera Sono Comunque Possono essere colpiti Dalle armi Ma alcuni tipi di danno Mi fanno Di meno Per esempio Uno scheletro Mi pare Le armi Taglienti Di fanno Sì Perlienti Perforanti Esatto Poi se parliamo Di mummie E cose del genere Inizia a essere Molto più complicata La faccenda Per Vari tipi di Possibili Abilità magiche Che possono avere Residui Di magia Di necromanzia Che ancora hanno Addosso Bla 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 Quindi dipende Al momento rimane Valida La formula Del lavali col fuoco Esatto Lavali col fuoco Funziona sempre Va bene A posto L'ultima cosa Che faccio E ci metto Tutto il tempo Che mi serve Mi faccio Una coppia Delle mappe Del continente Della regione Delle regioni Dove dobbiamo andare Anche le grosse linee Ma mi faccio le mappe Non ne posso più Di girare Senza la mappa Ok Ok Allora Questa è una cosa Che ti prende Più di un giorno Sì Vabbè Ovvio In velocità Cioè no Vabbè In velocità Velocità Non mi servono i dettagli Dei fiumi Ok Allora Se vuoi uno schema Di tipo Le città più grandi Come sono collegate Sì Adesso Non so Ci metti Un paio d'ore E lo fai E Se no Se vuoi qualcosa Di più specifico Per il momento Così Poi se ho tempo Nei giorni successivi Torno E mi faccio le mappe Vabbè Intanto quindi Fino a metà giornata Fai questo Altra cosa che cerco E se c'è un modo Non so se vale qualcosa Ma semplicemente Manuale di sopravvivenza Orientamento Anche in luoghi chiusi Anche in luoghi chiusi Eh beh Se dobbiamo entrare in labirinti Lui fammi una ricerca Sempre investigation Sì 13 Ok Riesci a trovare qualcosina Di spiologia Principalmente Cioè quello che mi interessa Nello specifico È Un modo per segnare la strada In labirinto Se trovo Ah Cap e penna Sì In realtà di fare una mappa È guerra E incidi Incidi dove passi Al massimo Sì E poi vabbè sì E comunque altri trucchi In generale Sì Ok Va bene Quindi Arriva più o meno metà giornata Arrivate voi due Recuperate Esatto Recuperate Ok Fammi un tiro proficiency Con i tuoi strumenti da fabbro Benissimo Quanto? Un più due Sei Otto Per ora Hai fatto la forma Grezzissima Molto grezza Si dovrai lavorare ancora un po' Però È un inizio Sono più gli atti che perdi Lavorando Che non Quello che abbiamo fuori C'è una cosa sfiga Sono tutto sotto Sotto il 15 Cambia set di dadi Cambia Cambia È sempre probabilità Postal Dica Dobbiamo andare Non ho l'armatura adesso Che palle Sta lavorando il ferro Fa caldo Vabbè tu hai l'aglio che repellente Ci pareggia Dobbiamo andare Dobbiamo andare al labirinto Adesso Aurora No Aurora ci sta aspettando Sapevo Che avresti un prezzato Sta rilavorando l'equipaggiamento Ma è quel prezzato Per cosa Per il combattimento Come andiamo un attimo al labirinto Si ha detto ieri sera Di prepararsi al combattimento Magica che si è spionata Si I fulmini Non sono naturali Ma Ma C'è Ma Ma C'è Ma C'è C'è Ma Non posso avere Ancora qualche Orata Ma Sì Ma C'è Ma C'è Ma Non usare Vai con giga Che fai Ma È vero che D'Arianna Mi fai una gran cosa Giga Con Spade C'è 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 Immaginavo Fulmini Colpisce la roccia Mi pareva un po' strano Mi pare cosa Giga Ah ok Vai Siccome Mi ha messo Fretta 14 Yeah Salto Sfrutto anche la magia Per quindi Discardare Codo Per velocizzare E mi metto Bam 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 Voi raggiuntiti Vai E vabbè È aumentato di uno Però Nove Nove Continua a lavorarci Con la fretta Non riesce a lavorare Con la fretta Chi non riesce a lavorare Con la fretta Sette Posso? Io posso Vai Buttate quel lato Per favore State buttando quel lato Per favore Bene Quindi Russare 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 Non è riconvinto Quindi Continua a lavorare Ma Comunque Questo metallo Sarà perché Il metallo dei goblin Non riesce ad avere È la forma Che gli vuoi dare Effettivamente Quindi Un po' così Però anche tu Che ti metti a lavorare Sul metallo dei goblin Quindi Io carico il humo Sul cavallo E andate La ripuola Poi torno All Ok Io vi accosto quel cane A metti la freccia Perfetto Comunque Bolster Che ci raggiunge Appena finito l'elmo Elmo? Sta facendo un elmo O almeno penso Forse un elmo Sembrava più un concomero Però il concomero È Boh Non mi sembrava Forse un parapolpacci Forse era un parapolpacci Non lo so Per il polpacci di Bolster Ha detto che voleva Finire sul polpacci di Bolster Sì sì vai tranquillo Tanto amico Faremo solo un sopralluogo Con il humo Che di cose magiche Si intende più di me A Yukio Ma quindi Io mi sono vestito Da pirla Per niente Perché non si è così Di farlo Che abbiamo detto Che non funziona A me ne ha detto Di prepararsi Per esplorare La pirla Sì ma Tutta la giornata All day long Dai Ne parliamo dopo Ne sogniamo All'adirinto Vai Dico Non mi vuoi di lasciare Yukio Troppo da solo No Che magari si perde Si perde Stando fermo Quindi Ritornate Verso il Il cosa E più o meno A metà giornata Arrivate Davanti All'entrata Della pirla Cioè Yukio Che vedendo di arrivare Esce dalla Dalla visitazione E Mi dice che Al momento Non è successo niente Bene E via Quindi Cosa volete fare Una volta arrivati Quanto ormai è praticamente sera No Pranzo Pranzo Sì Perché meno di metà giornata È a cavallo Cioè siete tipo Un quarto di giornata Un quarto di giornata Ah ok No è vero Scusa Un quarto Un quarto Siamo a metà E quindi sì Pomeriggio Tra l'altro Poi le quattro Pomeriggio Pomeriggio Vabbè io Questo è il posto Yunga Questo è il posto Eh boh Provo ad analizzare Non so Conoscenza cane Cioè Se vuoi conoscenza Se no Pensa tu Cosa fare Intanto Analizzo un po' C'è la mia Ma volevo chiedere al master Certo Come rantoliamo Come reagisce Il cane All'entrata Nel labirinto All'entrata Nel labirinto Non è Tanto felice Di entrare Là sotto Ok Mi chiedo Parlare con gli animali Ma mi porti Il cane Nel labirinto Non l'ho fatto Entrare Nel labirinto Sono arrivato Davanti all'entrata Nel labirinto E lo vedo agitato Mi chiedo Parlare Gli animali Cosa c'è? Puzza Puzza di qua c'è? Male Di male? Brutto Sì È brutto Brutto Non ci vuoi proprio entrare? No Nemmeno io Stai tranquillo comunque Non ci entriamo Stiamo qua poi Sì No Stiamo qua poco Comunque Stai tranquillo Di arcana Totale Tu stronzo Come Come Gli dai Luigi Tu stronzo Cavallo Anche lui Sembra un po' Agitato Anche a lui Stai tranquillo Non ci entriamo Non ci entriamo Carota Carota non so Di magico Che ha tirato i pugni Vedo qualcosa in particolare Guardando con i tuoi occhi No Ok Individuazione del magico Fai individuazione del magico? Sì Ok Sono circondato Scala No perché No nel senso In questo modo Essendo livello 1 Devi dirmi che fai Individuazione del magico Perché altrimenti No Cioè non è scopato Che fai individuazione del magico No no Beh Comunque certo Se trovo qualcosa Poi Sì sì No Allora Vedi due cose Uno Della Due cose Vedi due cose Uno Dei flutti di una magia Uscire dal Dal terreno Ok Dal buco Nel terreno Dall'entrata Vedi Del residuo di magia Effettivamente Che sta Uscendo Dal terreno Ok La seconda cosa che vedi È un cazzo di simbolo Sulla sua fronte Che fai individuazione Che ti è successo? Perché hai un simbolo sulla fronte? Che simbolo Che simbolo sulla fronte? Che simbolo sulla fronte? Sì allora Io riconosco Cioè è un cerchio È una cosa particolare Quello che vedi Sembra essere Una Mezzaluna Con Una specie di sole Ok Lo conosco come singolo Più lo tirano 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 24 24 Cos'hai fatto sulla fronte? È un simbolo magico Sulla fronte È una mezzaluna È tipo una mezzaluna Antico una mezzaluna Con un sole sulla fronte Lo so Ho chiesto anche a Eiji Perché Quanto cosa? Su sta cosa qua Perché non c'è dito niente? Quanto è venuta fuori questa cosa? Quando ho salvato il coval Mi ha appoggiato La testa sulla fronte E poi adesso mi è ogni tanto prude Ma pensavo fosse niente di che Poi l'ho chiesto a Eiji Che non dovrebbe essere niente di grave Forse Ok Cosa vuol dire forse? Non lo so Ma c'è un cannolo di simbolo Potreste lo resteremo sempre occupato Ecco Se deriva da qualcosa Deriva dal covarci E covatri E covatri sono buoni e gentili E potrebbe essere una benedizione Per quanto Non lo so Come ho detto a Milo Non me ne preoccupo Perché se viene fuori da un covatri Dal contatto col covattro I covatri sono buoni e gentili Quindi non credo mi abbia maledetto Perché gli ho salvato il culo e invece e invece volevo fare tutto da solo e invece ma è rovinato la media no mi verrebbe da dire che potrebbe essere un qualche tipo di benedizione da una creatura buona è un guardiano ma infatti perciò non ha premato mio padre e ciò non dovrebbe essere una cosa negativa però infatti che non ci hai detto niente non sapevo neanche che fosse un simbolo magico fino ad adesso ok lo potevi dirti va bene ok io l'unica roba che sapevo fino ad adesso il co-water mi ha messo la testa mi ha messo appoggiato sulla mia fronte e la mia fronte è prude questa è l'unica cosa che so ho chiesto a Regi mi ha detto non lo so dovrei vederlo non dovrebbe essere niente di brutto forse e poi riaggancia comunque digli che hai un simbolo poi io lo disegno si che possa descrivere hai questo simbolo fa un po' il tramonto glielo dirò ok digli che hai questo sulla fronte che brilla non posso riconoscere il tipo di magia vero? buona notizia no forse devi fare un tiro conoscenza arcane una volta cioè ma l'hai già fatto ok quindi riconosci che sicuramente non è malvagia quella che viene su dal coso invece? oh sì oh sì oh sì quella che viene su dal coso è chiaramente necromanzia necromanzia sì allora quella che tu sembra essere comunque una cosa di magia buona da là vieno fuori necromanzia fiotti di magia di necromanzia dal cunicolo posso che mi fanno un attimo la faccia da Nicolas Cage? ma dai no 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 nel senso che si tratta di beh dai racconti che ho sentito sì ma magari c'era qualche artefatto potente che aveva trattato la magia ma no si tratta di necromanzia 16 di da dove sì cioè necromanzia sì non molti si deve mettere i spiriti ma io l'ho proposto tu come è andata la tua ricerca in biblioteca? se riuscite a capire cosa possiamo fare per sostenereci che non sia cospargerci di aglio e trasformarsi in enorme pizza marinara che naviga ehi allora in realtà sì in realtà in realtà in realtà in realtà però a seconda dei mostri ci sono vari metodi per difendersi quasi tutta roba magica che è tipo impossibile da procurarsi qua a quanto pare e praticamente le armi normali sono quasi inefficaci sui mostri questi qua cioè vai tipo la possibilità di mancare o di far pochissimo danno al mostro soprattutto se si tratta di uno spettro gli scheletri non li colpisci cioè non li fai niente con le frecce possono andare a romperle e basta cosa è frutto? ok io so solo che io so solo che giga e stronzo sono e non esiste una mappa mettimi invertiti stronzo e giga no non è che migliore più di tanto sono sono molto agitati beh ci credo se lei ha sentito tutta sta negatività qua nella mia zia la mia idea era quella semplicemente di richiudere il buco esatto cioè l'idea era però se la magia che si è alcuna ha fatto esplodere la roccia davanti mi sapeva allora la questione è anche potremmo sfoltire allora ragazzi potremmo sfoltire il potere magico la questione è anche che bisogna capire se è stata una cosa volontaria o involontaria esatto quindi in ogni caso io proverei a guardar dentro da fuori guardar dentro si trova qualche clip c'è sempre con la cosa della magia vedere se trovo graffi cose strane simboli rune che possano avere effettivamente attirato il fulmine volontariamente da quello che vediamo buono buono un po' mamma mia che figo questo dove più sono a fronte va bene potessi vederlo anch'io noi potessi vederlo anch'io quindi quindi Yume c'è poco da fare dobbiamo scendere dentro si ma non perché tanto non col buio beh tutto ne ho ovvio allora diciamo che l'unica cosa che ha istinto direi si ma bruciatola di notte è quello che sto per fare si ma lui ti sto dicendo anche che probabilmente l'unica cosa che ora come ora almeno per alcuni mostri tipo morti, zombie eccetera possiamo fare è fuoco almeno per bruciarli quindi scorta di olio allora facciamo così visto che come abbiamo visto ci mettiamo poco tempo di levare fino a qua domani mattina facciamo la spesa delle cose necessarie e poi per pranzo siamo qua nel mentre per fare come come da consiglio di Milo io provo con le macerie e le mie trappole da cacciatore a fare in modo non dico di chiudere purtroppo il luogo perché è impossibile ma di fare in modo che se qualcosa esce potenzialmente comunque ne venga rallentato o ci metta più tempo così se uno dei ragazzini tenta di fare la prova del coraggio si ritrova con il piede nella tagliola nella tagliola nel piede cazzo suoi maledetto bimbo minchia fantasy esatto fai il culo bimbo minchia fantasy possiamo chiudere chiudere io non ho metodi per chiuderlo e poi in ogni caso Milo visto dobbiamo scendere comunque chiuderlo per fuori apriendo non ha molto senso da me poi se questo serve aiuto ragazzi non lasciatemi qui per piazzare le trappole ci vuole il vantaggio prenderò il 16 19 buona piazzi una serie di trappole fatte al momento si no no farò un mix con quelle per tipo tra tagliole proprio improvvisate reti perfetto in modo che vedertamente qualsiasi roba voglia entrare o uscire e che non siamo noi ne sia quantomeno rallentata se non bloccata perfetto io tra un altro mentre lui si stava le trappole metto tutto l'aglio che c'ho addosso davanti all'embrato va bene i vampiri non arriveranno i vampiri non si non si nel momento in cui si riversa sopra il sale mi sembra non sull'aglio davanti all'embrato se anche le rumache poi nel momento in cui il mio non vele io metto via l'aglio ma perché devi metterlo via nel momento in cui tu non lo vedi quindi tornate nella società si perfetto tornate nella società magari funziona ho letto di qualcosa riguardo l'aglio sui libri di necromanzia per non morti quali ghoul vampiri eccetera forse può si può dargli forse fastidio ok non lo dico non lo dico ok c'era una che diceva perfetto tornate in città ormai al calare della sera tornate al rubino bolstag con il suo bellissimo sedice è riuscito a crearsi il suo sedici totale o il quanto il totale no 18 18 18 totale ok con 18 sei riuscito a crearti un elmo non è il più sfarzoso elmo che tu abbia mai visto ma poi continuerai però per ora sembra essere funzionale e arrivate in taverna in taverna il gruppo di avventurieri sembra non esserci ok e cosa volete fare tra l'altro l'elmo all'istanza parlo come dici ok l'elmo mi ha tipo un c.a non lo so non lo so perché con l'elmo e altre cose ti stai avvicinando sempre di più a un'armatura completa quindi adesso controllo esattamente cioè adesso ci penso un po' allora io dico ad Aiji sì il labirinto si è riaperto da solo energie micromantiche da sotto da sotto sono inizi parole chiedo a lui se sa se se qua se qualcuno che lui conosce che potrebbe che possa aiutarci che gli facciamo vivere ma che le diventi chi le conosce perché facciamo tenere la pietra con me Eiji con lui perché l'altro voleva la pietra e poi se no fosse venuta in mano a volta che sai come sarebbe andata a finire non posso usarla io non mai il secondo giorno Eiji le avrebbe rotte a martellate a non sentirlo allora comunque allora lascia stare l'ultima parte no ho con culo me la tengo ok allora tanto c'è tempo Lai vi dice procedete con cautela sfortunatamente non conosco nessuno in città provate con un chierico ok in caso provate forse un chierico potrebbe esservi utile forse forse cluk cluk a posto? sì ok cos'altro volete fare? mangiare ovvio mangiare ovvio se magna doppia mangiata e ovvio mangiate spendete come il giorno passato e dormite che era sempre del tremone sì e dormite in tranquillità albi che armatura hai tu? ho un'armatura di scaglie che ho un svantaggio stealth no canto non che fossi bravonello stealth più lo scudo rinforzato più lo scudo ok allora facciamo così prenditi un più uno in ciao sono triste cosa? non voglio fare spoiler in live se qualcuno segue il mondiale non spoilerà però ho saputo chi è il campione del mondo e allora hai spoilerato e allora hai spoilerato per forza quindi ditemi che c'era qualcuno che ti fava va bene basta così basta così andate a dormire vi svegliate il giorno dopo la giornata non è più osa una bella giornata come mai il sole splende sopra il mare cosa vorrete fare? olio quanto più possibile tu prendi delle frecce bagnate d'olio Yume tu che capisci un po' di un po' più di me di magia cerca cerca l'appoggio se trovi qualche un qualcosa un qualche chiarico diceva Eiji che possa servirci proviamo a chiedere alla locandiera se ci sai indicare un tempio in cui potrebbero venirci in aiuto con un chiarico sì signore Yume Yukio vuoi andare a raccogliere materiali infiammabili con le simili ciao Walter boh se no io allora ma io forse se vanno Yukio con lui e io vado a parlare con i chiedici se oppure vogliamo andare tutti insieme dai chiedici no basta lui vado a raccogliere tu vuoi dai chiedici eh ok tu vuoi dai chiedici tu Yume è andato a recuperare materiali infiammabili ok ciao Walter quindi olio io ho detto olio stoffe grete io vado a controllare le trappole che ho messo ieri ok ok quindi se non mi vedi tornare se non mi vedi tornare entro mezzogiorno manda il palco verso l'abirinto o quanta è la distanza l'abirinto il quarto di giornata a cavallo o mezza giornata quindi ingolo sapete più o meno come il cavallo sì un quarto di giornata più o meno perché tanto sei in mezzo ai campi non è strada difficile come il cavallo quindi avevo detto roba per comprare io vado con Yu-Kyu a comprare olio olio sono una d'argento a fiala io ti lascio le monete d'oro che avevi dato a me ti lascio così non le posso portare non tutte non posso portare 18 monete d'oro più le tre che abbiamo già dato noi l'altro giorno quindi ne ha 21 più 21 d'argento ok io ne ho di 21 d'oro no scusate non lo aveva già segnato 21 d'oro non so perché ma vabbè qua c'è Yu-Kyu segnati le spese fatte ok ecco qua allora quanto hai detto le fiasche d'olio una d'argento a fiasca una d'argento a fiasca ok compreremo una d'argento a fiasca con una moneta d'oro ne compriamo 10 10 10 fiasche poi quindi una moneta d'oro è andata e poi stoffe sto per dare fuoco alle cose una d'argento un po' di stracci stracci di stracci parecchi stracci per una d'argento sì parecchi stracci cioè dipende allora vuoi stracci stracci brutti immagino vuoi quindi allora anche una di copper una d'era una d'era ok se cerchi qualcosa di più bellino non penso serva se gli devi dar fuoco spendo 16 monete di rango ok quanti stracci un carretto di stracci si giusto bastano giusto per le frecce per fare due torce ma aspetta è vero prenderò parliamo 5 monete di rame di stracci ok rame di stracci quindi 5 stracci io ho 15 sull'ermo ok riusci a rifinirlo e poi prenderò anche vado anche a comprare il piume piume? da mettere sul lermo ok e poi prenderò ok la musichetta è perfetta col botto piume sul lermo e poi prenderò anche prenderai anche due torce due torce anzi quattro torce ok le torce torce una di rame a torcia ok quindi altre sì non ti costa niente quattro monete di rame ok a questo punto faccio conto tondo ne prendo 5 di torce va ok e le cose infiammabili le abbiamo presi ok perfetto che altro che prendi? dell'aglio ok dell'aglio quanto aglio eh no ho usato tutto per due di rame ti prendi quanto aglio vuoi perfetto altre due di rame ok scalare anche da qua però i soldi sì non li sto scalando li sto accumulando e voi sto pensando intanto fai loro ok voi altri eh io non do da chiedici quali chiedici? eh non avevi chiesto ci sono templi di isaki iku e omezu il dio più buono che mi venga in mente tra questi e qua c'è di loro cammini iku la madre ok direi che è tra l'altro lo stesso giro di piedi esatto quindi ti inviano vento ti inviano al tempio di iku all'interno della zona dove sono presenti appunto i templi e come molto simile a quello presente ad oro è un tempio formato da uno spiazzo abbastanza grande con delle colonne tutto intorno sulle colonne sono incisi degli alberi di ciliegio con un tramonto sullo sfondo e la maggior parte dei chiedici appunto ha tatuati delle lacrime e sono vestiti di bianco e rosa mi rivolgo ai chiedici noi l'altra volta avevamo parlato ci eravamo venuti in questo tempio non ricordo no eravate in colo di oro non in questo ok e chiedo ai chiedici di se c'è qualcuno diciamo lo dico un capo a loro ma insomma qualcuno a cui possa rivolgermi per chiedere delle informazioni riguardante cosa? ha bisogno di una mano? sì allora diciamo io e il mio gruppo di amici avventurieri siamo giunti in città sulla notizia del fatto che si sia riaperto questo labirinto ah certo come no ok in realtà siamo venuti su richiesta di contagini insomma cioè perché ci hanno detto i contenitori quindi non hanno paura e noi vorremmo evitare insomma vorremmo fare in modo che il labirinto venga epurato sigillato quanto possibile e quindi vorremmo provare a detrarci nel labirinto da una breve così insomma visita al luogo abbiamo capito che c'è molta energia negativa magia negativa brutta 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 che abbiamo in su dal labirinto ok e volevamo chiedere a qualcuno insomma che si ok vado a parlare con la sacerdotessa e qualcuno almeno una persona sono sicuro che saremo in grado di aiutare potete riferirle non so quanto siete in contatto con la città di oro nel caso potete riferire che siamo coloro che si sono occupati del demone ombra nella città di oro ok va bene se la voce è arrivata saprà chi siamo ah Mario Damantino si ah non è ancora arrivata la voce ok mentre io cerco io cerco primiera stile spartano blu ok di piume più delle piume lunghe cioè tra l'altro di colori variopunti tra parentesi al tipo di coerentia di necromanzia ovvio specifico ok al mercato prendo anche un sacchetto di sterco ok e un rotolo di spago ok e passo penso ti serva a comprare c'hai un cane e un cavallo boh comunque hai un cane e un cavallo e passo lo sterco ce l'hanno e passo ok quanto un cavallo e il rotolo di spago quanto mi costa e poi c'è il quarto quanto lungo dipende dopo quarto questo è anche molto in caso e poi passo e il resto della mattinata ma credo che ne portuga più o meno quanto un cavallo finché non ci ritroviamo con ah ho preso 10 fiasche d'olio in più ok quindi invece di una moneta d'oro ne spendo due ok e ho preso 7 gruppetti di stracci invece che 5 ok e per il resto della mattinata finché non mi ritrovo con loro la passo insieme a Yukio a praticamente fare delle palline di sterco ad avvolgere i stracci e legarli a fare tipo bombette da dargli fuoco per lanciarle contro le cose ok non è tanto felice di fare sto ho capito va fatto io sono felice anche la paglia va fatto sterco e paglia è vero sterco e paglia ok madonna che bel profumino che dà è ho capito va fatto va fatto poi ci l'abbiamo abbiamo la suite è vero è vero quindi si può si rifanno entrare dopo una una ventina di minuti il chierico comunque hai parlato arriva con una una ragazza che si presenta a te come ren e ti dice che vi accompagnerà in questo viaggio sperando che non ci sia niente di incredibilmente malvagio là sotto ma almeno lei vi accompagnerà gli altri fortunatamente devono fare cose all'interno del tempio quindi questo è quello che si può fare come aiuto ok quindi deduco che la voce tra parente se non è arrivata per quanto le so non c'è ok 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 quindi io andavo verso il labirinto sono andati verso il labirinto è arrivato al labirinto cosa contro le trappole contro le trappole sono ancora tutte là sono tutte perfette benissimo non c'è non c'è un'occhiata in giro se ci sono segni di qualcuno che è già passato nell'initazione e se no se non non c'è un po' non c'è un po' non c'è un po' con il fuoco da campo quindi posso dare fuoco a una pallina di merda esatto una pallina di merda sì quindi lui torna indietro a mezzogiorno più o meno vi ritrovate tutti insieme tu hai trovato le tue piume le tue bellissimo io sono tipo Rambo ho tipo i cinturoni di palline i pallini di ster le fiaschiette d'olio dall'altra parte ok e Yukio è vestito esattamente come me però ha una faccia molto più torina ok quindi arrivati in mezzogiorno vi raggruppate di nuovo siamo pronti prontissimi io metto i certo che cos'ha il testo è l'emmo no quelle cosa sono piume credo siano piume perché piume le giardole borsa che cos'è perché io non ho questa cosa è molto estetico è molto estetico al mercato trovo anche un sacchetto di sfere metalliche al mercato se vai da un da un fabbro su un biglio ok ce l'ho non so che cos'è però è un sacchetto da mille sfere metalliche io lo voglio non riesce a portarle si è un chilo solo potrebbero essere carine come proiettili da fionda in realtà ma anche anzi ho pensato che puoi tirare a terra eh io metto perché direi ah lei è Ren e se sarà una sacchettotessa sarà una chierica si penso non sia ancora arrivata in realtà la voce di quello che abbiamo fatto di là perché ho provato a dire di parlare con la sacchettotessa o se per la sacchettotessa è capo lì a voi che eravamo collegati che si sono occupati del demone ombra ma per vedere se magari per cosa? per quello che ci stanno cingendo ah non c'eri che è il Mino ah io ero Ren questa che è si è il Mino e quindi si penso non sia ancora arrivata la notizia speravo che ci facesse che tantomeno mi ricevesse la sacchettotessa ma no beh comunque io sono andato davanti al Divinto le trappole sono ancora tutte intere non è uscito niente esatto hai visto che c'è un impronte comunque non ho trovato impronte l'intorno io farei non lo so io proverei solo perché c'è un altro gruppo di avventurieri a cui tecnicamente abbiamo detto che stiamo andando alla bici cioè che c'è questo labilito e ci stiamo andando se le trappole sono intere vuol dire che non sono entrate manco loro perché sono molto brave a schivarle allora uno si prova insomma comunque se siamo pronti vedrai di andare siamo prontissimi sì ah non l'ho detto perché non l'ho detto quante quante abbiamo qualcosa per usare i muri al di là dello sterco quante palline di merda quante palline hai creato quante palline di merda confezionate se non è uscito a creare facciamo così adesso te lo dico dato dal tragitto ne avrai altri due di dodici muovendo da fare due di dodici sì sì facciamo i pazzi facciamo cinque otto di tredici palline di merda a cui del fuoco potenzialmente se non si le vale troppo al cavallo ne avrei altri due di dodici freschissime morbide fragranti che bello caldo che bello quindi se non l'ho detto a loro porterò altri dieci quindici minuti a cercare un gesso vabbè prendi un gesso e andate ma presti visitazione posso segnare uno può lasciare segni però per un'ora tredici ok noi siamo pronti torniamo all'abirittura cavalcate arrivato davanti all'entrata io cammino cavalcate baraccaminate arrivate all'entrata dell'abirittura manderà sì falchietto davanti falco davanti eccetera eccetera ok smonti le trappole smonti le trappole aglio d'aperturro aglio d'aperturro una coluncina d'aglio anche a lei aglio una freccia mi spiepola se mi basta che non la mangiate se ci sono come lo vampiro l'aglio pare funzionare in parte no visto in parte forse tiro fuori una delle una delle coroncine d'aglio che vi ho portato via ieri sera o la mia grazie sì previdente sì sì previdente basta di dire delle disgrazie quindi vi preparate iniziate la discesa ah sì tra l'altro io prendo un pezzo di stoffa da usare tipo fiumca per farci una fiumca nel caso mi serva ho preso cinque torce perché ne do in una testa ho luce immaginavo vabbè metti che metti che c'è un campo antimagina borsa luminoso no nel senso che io ti direi le torce di accenderne una ma perché ci potrebbe servire per dar fuoco ma chiedi le altre vi uno sì infatti mi lo una alla volta le torce perché non sappiamo quanto potremmo rimanere qua sotto abbiamo razioni abbiamo cose raro razioni per quanti giorni ne abbiamo io cibo anche io tipo 7 ok quindi tecnicamente stando cauti dovremmo che sopravvivere abbastanza con le razioni avete preso alla parola cauti cauti di razioni è il vostro da mangiare troppo ti fa niente degli infatti quindi vi preparate scendete accendi la torcia scendete nelle profondità della terra e ci fermiamo qua direnci dai ci sono le quasi 8 sono le etardi quindi direi che per oggi è abbastanza direi e non sappiamo che cazzo hai in fronte tu e non sappiamo che cazzo hai in fronte quindi almeno non sono una cosa luminosa lo vedo allora io vorrei citare delle corde che mi fa fatta lo screen perché erano troppo belle e tipo ringraziamo Plato per la Sabo e niente ragazzi grazie per essere passati ma guarda che cosa bella che ci scrive si è simpatici no eh grazie grazie mille per oggi avete fatto volare un pomeriggio su questo lettino tra avventure e risate che ne sono davvero estremamente gratuito soprattutto dai notti che ha fatto e fa sempre tanta fatica per organizzare queste bellissime sessioni siete tutti meravigliosamente dotati simpaticissimi spero che questa presenta di spedale non sia lunga spero ne abbiamo tutti penso sì dai come di in modo che posso arrivare a lavoro per due regalini che stavo preparando per il mio barbutissimo master e per carissimo Milo grazie allora ragazzi buona serata buona serata signori spero che appunto vi state divertiti e niente io ho fatto gli screen di tutte le citazioni letterarie di prima le leggeremo adesso vuole live perché vabbè però quindi niente buona serata buona serata e ricordatevi Milo vi ama cosa cosa chiudiamo qua ciao